ciao max bentornato che bello ti senti un po pochino un po non dico a casa ma in una spa come dicevo prima che uno viene al bazar di più di più di più che a casa sia sempre se stessi perché è il luogo intimo invece qua il ricordo che ho poi magari oggi mi smentite però è proprio di pensare anche a un se stesso diverso che però non tradisce il se stesso partiamo subito altissimi filosofici no però veramente ho la sensazione diciamo cagate fino a un minuto prima poi parte la puntata e diventiamo subito chissà perché continuiamo a dire cagate no 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 la sensazione di come si può chiamare quel momento in cui scopri di sapere delle cose di te no tipo mi ricordo che tu mi dice io non sono spirituale no mi ti ricordi e sono rimasto non spirituale però tu mi dicevi che andare in bicicletta è spiritualità è un mantra è una preghiera adesso imparando suonare la chitarra e ritrovo lo stesso cioè questi movimenti ripetitivi e da quel da quando sono venuto qua ho capito che la bicicletta la chitarra sono tutti momenti di spiritualità di meditazione per me no e quindi ho portato a casa una roba importante sì io pratico sai la meditazione però è una meditazione mentale la mia e non è sufficiente al totale benessere della mia vita perché tutti quanti noi viviamo in un mare di dolore perché la vita cambia ci succedono tragedie guerre eccetera e devo dire che la meditazione del corpo è altrettanto importante e per una persona molto cognitiva come me me lo dice sempre la mia psicologa davide tu hai un cognitivo molto forte è importante la la meditazione del corpo che la bicicletta è una meditazione del corpo perfetta dai no non puoi non aver esperito dopo questi anni in cui nei fatti di tutti i colori hai presentato il libro due volte mi sa avanti indietro nell'italia tappe ero venuto quando ero già stato in sicilia e poi ho fatto torino trieste l'anno scorso quest'anno domani vado in romagna pedalando per un festival non faccio niente di sempre presentare questo libro però arrivo a bologna in treno perché non ce la faccio in giornata da milano e vado in bicicletta anche perché ci sono 35 gradi tutti i giorni l'anno scorso l'ho fatta a luglio ho fatto la cazzata di andare a luglio da torino trieste e posso dirlo vomitato a novara da un cliente già da un perché mentre mi sposto intervisto persone no cioè faccio la tappa pranzo colazione così e poi la sera la presentazione del libro e sono arrivato a novara dopo ho fatto torino milano in giornata in bicicletta il 6 di luglio un caldo fottuto cioè lì non c'è poi proprio sotto le risaie sono arrivato a novara per intervistare un'azienda di stampa 3d in metallo che stampa le turbine dei boeing e mentre intervistavo con la gopro lì così a un certo punto scusi devo andare in bagno un secondo a quel colpo di calore ma no ero talmente eccitato dalla partenza che non ho bevuto cioè ho bevuto ma poco non ho mangiato e comunque sono 100 chilometri da torino a milano e in mattinata poi ero passato dalla vazza c'è una serie di cose che da sprovveduto quali quali sono quando ci sono questi momenti per cui parte tutto eccitato la gente che mi seguiva alcuni di di torino che mi hanno accompagnato un pezzo poi sono in ritardo dovevo arrivare lì insomma e sono stato male sono stato male ma comunque poi la sera sono arrivato a milano ho fatto la presentazione a milano e c'era mario cipollini quel giorno a milano c'era la finale di c'era in italia spagna abbiamo visto la finale il giorno dopo sono ripartito per brescia però bello parliamo hai cambiato bicicletta comunque ho visto questa è quella la seconda che ho avuto adesso non ho un'altra non ho un'altra che è una cipollini tutta blu in carbonio un chilo di telaio tanta roba cambia tanto l'esperienza con una bici così leggera ma in montagna abissale anche dove invece sì però mi sfotto non mi sfotterà anche tu io uso quella pedalata assistita che comunque non vuol dire che vada sola lo dico a tutti soprattutto quella da corsa devi pedale tu però sulle salite da un grosso aiuto perché non sono molto allenato cioè vado poco poi ultimamente ho iniziato andare in palestra e mi allena ancora meno in bicicletta perché quell'uomo lì mi ha detto che è importante fare la massa muscolare soprattutto per la vecchiaia un investimento per la vecchiaia ed effettivamente vabbè la parte l'ha fatto di vedersi più gradevole allo specchio fare una trazione con con i muscoli ma quello non riesco a farlo e ci arriverà però quindi alla fine il tempo è quello quindi adesso sto dividendo tra bicicletta e palestra quindi faccio un po meno palestra e ne parlavo con i ragazzi che quest'estate ad agosto non so cosa fare o lavoro perché sono già stato in vacanza oppure faccio voglio provare a fare cicloturismo che è un bel fatto bello con la famiglia con la famiglia da solo da solo da solo ma mio figlio ancora piccolo per farla questa cosa e però anche lì io ne avevo già parlato la trova dalla sensazione te lo auguro di farlo prenditi il tempo per fare la sensazione di allontanarsi da casa con tutto dentro la bicicletta è una delle cose più belle che mi è capitata di fare e lo consiglio a tutti ovunque voi siate qualunque bicicletta abbiate una notte fuori basta l'idea di arrivare in un posto e risvegliarsi con la tenda o anche dormire in albergo dormivo in albergo però rifare il bagaglio riattaccarlo alla bicicletta e ripartire ha un senso secondo me molto ancestrale no raccoglitori cacciatori stesso discorso ha dei cammini cioè io infatti sto aspettando di farmi un cammino con la tenda tutto dietro quindi senza appoggiarmi in un bed and breakfast ho provato ho fatto un test e ti giuro quel pomeriggio quando ero arrivato in un prato e lì mi sento ok d'ora in avanti c'è un posto in cui dormire ma arriva dentro un senso di libertà cioè non è più la parentesi chiusa no cioè è proprio un ti cambia la prospettiva non so cosa succede io credo ripeto che alla fine arriviamo un po al mio campo no il fatto che comunque i geni adesso è stato anche scoperto credo che c'è un rapporto tra i nostri geni e l'ambiente in cui viviamo no si chiama epigenetica alla fine noi i nostri geni li abbiamo formati soprattutto facendo raccoglitori cacciatori no e non gli agricoltori perché l'agricoltura una roba di 12 mila anni fa circa noi abbiamo 200 mila secondo alcuni 300 mila secondo altri se vai prendere il genere omo cinque milioni tre milioni questi nostri progenitori hanno soprattutto camminato e raccolto più che costruito civiltà no e quindi secondo me questa roba di muoversi e di andare a esplorare cose è una cosa che ti riempie la vita e quello che dicevi è proprio quello cioè non è che mi fermo qua perché c'è un albergo perché c'è una città mi fermo qua e no e questo diventa mio questo prato diventa mio questa montagna diventa mia questa collina diventa mia e secondo me è molto potente come sicuramente andrà a contattare delle zone del nostro cervello che sono rimaste dormite per secoli e ci fa sentire quel brivido di quasi di riconoscersi sia di ritornare a una parte magari ancora più pura e primordiale di noi e non c'è non credo che c'entri la natura cioè perché una delle frasi banali che sento dire che dico anch'io no che bello pedalare in mezzo alla natura io credo che sia proprio invece camminare in mezzo a noi al nostro 120 mila anni anzi 180 mila anni cioè tu ti muovi dentro quella parte del cervello che avevi dimenticato no cioè c'è la casa c'è l'albergo c'è la strada con la bicicletta piedi non esiste nulla cioè tu viaggi tra i cespugli tra sentieri che ti immagini tu e quel momento lì è proprio un momento di esplorazione profondo del tuo io al prescindere dalla natura no che comunque faceva parte del nostro mondo in quell'epoca però anche quando pedalo tra le città non è che che mi sento meno libero no è proprio una sensazione potente sì è quella componente proattiva cioè quella per cui noi da un lato dobbiamo scegliere il posto giusto no scegliere il posto per esempio dove piantare la tenda calcolare cioè considerare il territorio leggerlo e quindi essere li presenti nella scelta e dall'altro lato c'è quella esposizione all'incognita al rischio che nella vita normale non abbiamo e quel binomio tra fattore attivo e rischio secondo me è una componente nel mio caso nella nostra natura nel mio caso il rischio è non trovare posto al ristorante che io volevo andare ma smettila io ti ho visto fare una cosa bellissima non so si può dire ma questa roba della tenda sulla macchina la voglio no si deve dire perché è finalmente uno che mi segue su Instagram diciamo no è bellissimo questa cosa che fai tra l'altro questo weekend andiamo per la prima volta noi tre ma come funziona come dormiamo tu dormi con me su amico mio e tu nel cofano e io con la mia tenda più selvaggio ma lontano no lui si è comprato una tenda nuova super leggera tenda nuova materassino poi anche l'attrezzatura è una figata cioè perdersi in questi acquisti poi lui per dormire ha bisogno delle macumbe quindi allora non è che si dorme bene nella natura devo dire tutto puoi dire che dormi bene nel bosco perché se non sei uno che senti tutti i rumori basta una foglia che cade da un albero dice oddio è arrivato che cazzo è arrivato il lupo e in più io dormo sempre di solito con mio figlio tu hai visto su Instagram con mio figlio che comunque è un angioletto si gira occupa anche poco spazio ha otto anni eppure comunque se sei abituato a dormire in spazi più grossi c'è comunque la tenda sopra il tetto è grosso come il tetto della macchina quindi alla fine quindi non è che ti puoi girare come ti giri nel tuo letto poi un po più duro non so come cazzo dormirò con lui di fianco anch'io dormo tutto rannicchiato ma se arriva il lupo tipo mi tieni la mano ma le ultime notti mi sa di no sai che mi sa che la questione dell'idratazione perché sennò a così sembra che noi condividiamo uno spazio mi sa che l'idratazione mi ha sto dormendo meglio e mi sa che non russo perché io quando russavo a volte svegliavo me stesso ma sai che ho dormito qua cos'è due settimane fa ed ero appena tornato da un monastero zen dove sono stato ospite perché sto facendo un master di economia no management e spiritualità tra l'altro del Politecnico di Milano con Luciano Traquandi che lo gestisce con la sua moglie e mi sono svegliato alle quattro meno un quarto del mattino per meditare tutto il giorno eccetera lavorare eccetera sono arrivato qua stanchissimo siamo stati qua tutta la sera siamo usciti io poi sono andato a dormire ho dormito lì per terra dove c'è quel divano lì sul materassino che Giovanni usa quando va in montagna e mi ha registrato russato attaccato a russare ma io non ho mai russato non ho mai russato cioè testimoni tutte le decine centinaia di donne che hanno dormito con me diciamolo decine non scherzo non Davide tu non russi mi diceva Davide beh la nostra fortuna è che tu non russia grazie grazie alla nostra perché erano insieme sono un allievo della scuola del presidente sul lettone di Putin esatto lì russi sarà la sigla della stagione prossima tra l'altro adesso in questo momento e no perché lì ero talmente stanco non potevo girarmi dormire la pancia in su non so perché stiamo parlando di questo a me piace russare devo dire che ti piace russare mi dà un godimento totale svegliati dal proprio russare proprio eh ma perché stai dormendo veramente da di no 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 non è auto no anzi non lo so a me dà il senso a me dà proprio l'idea che sto dormendo male perché io in realtà a volte me ne accorgo mi sto mi sono appena addormentato e mi sveglia il mio russare cioè non è sano per niente non lo so beh però mi sa che basta bere di più proviamo a mandarla e poi non ti asci per andare a far la pipì esatto esatto no stranamente stranamente no stranamente no mi svegliavo cioè quando dormivo male dovevo andare al bagno adesso che dormo di più non mi sveglio per andare al bagno e oh dormire è importante dormire è importante io non ho mai avuto problemi di sonno per fortuna ma si vede cioè tu hai un karma della madonna perché anche il fatto che parti per un come hai raccontato prima no che devi andare a torino così ti sei dimenticato alcune cose cioè si vede che hai un approccio positivo nei confronti della vita e questo per tu quando dico karma già sicuramente ti sei incrinato una parte del cervello no ma non è vero però lo vedi c'è a una certa età dopo 40 anni inizia a capire la natura di alcuni atteggiamenti umani che non possono derivare né dalla famiglia tra l'altro nei tuoi podcast fucking genius non c'è neanche bisogno di nominarlo perché oramai ha vinto praticamente premi ovunque il tuo podcast e io ascolto costantemente e fedelmente con mio figlio ad ogni fucking puntata lo dici no? è interessante questa cosa lo dici è un pattern che c'è nelle tue scorribande quando racconti la storia di questi geni l'annosa domanda ma questi qua sono geni perché sono nati geni o perché erano in un luogo propizio alla nascita della loro genialità alla fine tu l'hai capita questa cosa? un po' sì perché in alcune puntate io dico che è un incontro tra il talento e il contesto cioè devi avere un talento che credo tutti abbiamo e però devi riscontrare all'interno del contesto una situazione che esalta quel genio no? ci sono persone che non si esprimono per quanto potevano o avrebbero potuto perché quel talento era in anticipo perché quel contesto non era quello giusto e viceversa persone che magari non sono così talentuose che però quel poco talento che hanno nel contesto giusto le fanno esplodere quindi in realtà è una roba su cui sto lavorando da tanto è che è difficile da capire dopo passiamo a ecco ho dimenticato una cosa si hai portato un bot di roba io consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando su spotify che non sono tanti la maggior parte ci vede su youtube li descrivo li descrivo ho lavorato nel museo ho scritto schede catalogali per 20 anni so descrivere oggetti tecnici come se li vedessero e stavo dicendo che contesto il contesto è fondamentale ed è una cosa che purtroppo è difficile da capire perché noi non siamo abituati a ragionare per relazioni ma per soggetti per cui quella cosa lì è bella, quella cosa lì è brutta io sono bravo, tu sei cattivo o tu mi piaci in realtà dobbiamo cambiare livello cioè non guardare più l'ho imparato da Pirsi forse tu hai letto lo zen dell'arte della manutenzione della motocicletta no devi leggerlo, dovete leggerlo non l'avete letto? no è assolutamente da leggerlo è un libro bellissimo ad Elfi e lui diceva che la qualità non è né nell'oggetto né nel soggetto che cazzo vuol dire? è un libro che va letto perché è lunghissimo ti distrugge cioè arrivi alla fine perché è complesso a un certo punto dice la qualità è un evento emerge dall'incontro tra il soggetto e l'oggetto cioè tu non puoi dire questo bicchiere è bello cosa vuol dire è bello? è di qualità cosa vuol dire è di qualità? e lui fa proprio questo ragionamento lunghissimo filosofico a un certo punto parla di relazioni dice che la qualità è un evento ecco anche io ho scritto nel mio libro credo la cosa più intelligente che abbia scritto in questo ultimo libro è che l'umano è un evento noi non siamo io ho scritto il libro noi siamo tecnologia perché non potevo scrivere realtà noi siamo l'evento è la nostra biologia preumana con la tecnologia questa pietra che è una selge scheggiata 20.000 anni fa così mi hanno detto non so se sia vero che a un certo punto entrano in relazione non è né l'umano né la scimmia primordiale né la tecnologia emerge da questa relazione cioè noi emergiamo da questa relazione tra la nostra biologia Stanley Kubrick 2001 infatti lo cito dopo magari lo leggiamo questo pezzo di Stanley Kubrick perché lui dice un'idea scientifica di Dio che è bellissima bellissima lui l'ha detto lo leggo poi ricordiamoci lui quando l'hanno intervistato sul film io cercavo un'idea scientifica di Dio poi in realtà ci infila del magico perché il monolite poteva risparmiarselo secondo me è il mistero ma è questo no secondo me è questo questo posso dirlo è già quello questo è Dio non io non lui non lui non lui noi e questa roba qua cioè la nostra biologia questa roba fa emergere cioè è qua Dio è qua in questa relazione qua e qua emerge Dio cioè Dio nel senso l'autocoscienza probabilmente quel monolite è la simbologia proprio di quelle però siccome noi non possiamo però lui perché no le scimmie toccano ma bastava l'osso le scimmie toccano l'osso era già lì la relazione perché noi a quel punto allora di sicuro magari adesso in uno con una rinnovata consapevolezza dell'umano magari non c'era bisogno di mettere in mano a parte che è tratto da un libro allora no libro e film sono stati fatti insieme sì perché il libro è molto chiaro come raccontano non è assolutamente critico serve per comunicare serve per comunicare vabbè il monolite era era l'intervento di una specie aliena molto elevata molto avanzata tecnologicamente che influiva sullo sviluppo degli umani quello era il libro da cui tratto poi no no è quello che succede nel film cioè sì sì però io siccome lui è un grande cazzo poteva evitare di mettere questo elemento magico è vero che cioè alla fine nel suo caso per lui non è magico per lui è la rappresentazione di questo questa civilizzazione super avanzata diciamolo pure gli Anunnaki gli Anunnaki erano anche meglio diciamolo diciamolo una volta era passato Nibiru il primo a parlare di Anunnaki è stato Stanley Kubrick che sono poi quelli stessi che poi mettono il monolite sulla luna che fanno questo test all'umanità se voi trovate il monolite sulla luna vuol dire che siete degni di entrare in contatto con noi e allora parte il segnale verso Giove vai senti che bello che genio dirò che il concetto di Dio è al centro di 2001 ma non una tradizionale c'è l'idea no antropomorfica immagine di Dio non credo in nessuna religione monoteista della terra ma credo che qualcuno possa costruire un integrante intrigante definizione scientifica di Dio un'intrigante definizione scientifica di Dio nessuno l'ha mai fatto no il Dalai Lama l'unica volta che sono andato a vederlo dal vivo per fortuna che l'ho visto se no è come ieri sera che non sono andato a vedere i Rolling Stones e mi sa che non li vedrò mai più porca troia dovevo lavorare con Money Surfers che ricordiamo offre questo podcast Money Surfers punto com power buy power buy bravo e il Dalai Lama diceva ma raga ma non stiamo a far casino scienza io sogno e spero e auspico che è solo questione di tempo poi in qualche modo la scienza riuscirà a decifrare qualcosa che non riusciamo a decifrare che poi lui dice non seguite la mia religione tenetevi la vostra oppure siate scienziati va bene tutto l'importante è la compassione nei confronti degli altri esseri umani a me non me ne fotte niente di tutto il resto simboli croci cose compassione basta finito questa è stata la lezione del Dalai Lama a me interessa la libertà intellettuale che purtroppo alcune religioni quasi tutte ti tolgono ma non perché ti forzino perché banalmente si danno già una risposta secondo me la cosa più bella è cercarsi la propria risposta credo che la spiritualità sia questo farsi delle domande il fatto che qualcuno dica guarda se un signore con la barba che sta sulla nuvola con un triangolo sopra e ti dice tu sei buono tu sei cattivo ha finito il gioco cazzo ma tutta la vita cosa faccio io a parte lavorare e fatturare beh tu comunque c'hai la barba e c'hai un triangolo sotto dove è il triangolo? no lì è vero sei dio quindi sono messaggi subliminali che lui è stato parlavo di se stesso però hai capito cioè cacchio vieni al mondo con una roba qui dentro che è potentissima che deriva da questa relazione qua perché noi rompiamo tutti gli equilibri naturali e da quel punto diventiamo schizofrenici bipolari fragili in discussione ogni giorno perché le scimmie preumane o i canarini non si mettono in discussione come noi che abbiamo bisogno di andare dallo psicologo di fare spiritualità sono proprio più sono fighissimi ma sono in equilibrio con la natura noi abbiamo rotto l'equilibrio e da lì nasce la filosofia l'arte la nostra voglia di pedalare di fare cose assurde perché abbiamo usato questa roba qua abbiamo rotto l'equilibrio allora dico cazzo abbiamo rotto questo equilibrio abbiamo capito che possiamo capire chi siamo ma lasciamelo capire perché mi devi dare una risposta preconfezionata alla mia nascita col battesimo adesso salutiamo tutti i cattolici che ci guardano da casa lasciami inventare che per me Dio è questo bicchiere quell'altro dice che è questa scatola quello no quello non so se lo ricordi è come no che ognuno inventi il proprio Dio nel rispetto nella compassione per gli altri e discutiamone e tiriamo fuori il meglio da ogni Dio degli altri invece c'è un solo Dio con una sola faccia monoteistico cioè che cazzo troviamo io cercherei Dio in questa relazione sbaglio strada lo dico agli altri e gli altri magari non lo fanno più qualcuno invece continua la mia opera ma se invece ognuno di noi si accontenta di una risposta che qualcuno ha dato due milioni due mila anni fa è una perdita di potenza intellettuale umana gigantesca perché ognuno potrebbe veramente impegnarsi a cercarsi il proprio Dio no e che era un modo di pensare adatto ai tempi in cui la vita era miseria totale e quindi avere questa questa consolazione lì pronta era l'unica cosa che aiutava le persone non serve che lo dica io ma è stato funzionale a perseverare di un regime dittatoriale che per due mila anni ha ucciso un sacco di persone e la rese schiave che è la chiesa cattolica romana ma allo stesso tempo ha anche creato identità culturali cioè ripeto è un discorso complesso la storia delle religioni non sto dicendo è stato fondamentale per unire popoli per creare l'occidente l'idea di occidente tutto quello che vuoi però adesso forse ha ragione il fatto che adesso ci siamo liberati dal fatto che dobbiamo coltivare da mangiare tutti i giorni sperare nella grazia divina che arrivi la pioggia per alimentare tutte queste cose allora torniamo a fare quello che secondo me l'umano deve fare cioè cercare risposte farsi domande farsi domande e le religioni non ti fanno fare domande ti danno le risposte invece chi sono io dove finisce l'universo perché sono qua no cazzo non c'è nessun dio che mi ha messo qua non lo so magari c'è ma fammelo cercare no fammelo beh ma infatti la spiritualità oggi quella un po' più evoluta è proprio questo è un'altra cosa cioè qui con cui stiamo stiamo parlando di un modo che ancora c'è di vivere la religione basico no cioè poi quando si parla di spiritualità si parla un po' di quello di cui parli te no cioè di cercare alla fine quella soggettività nella relazione fra le cose quel relativismo che poi in un certo senso si incontra quasi sempre in un'origine comune no in una pulsione appunto a scoprire ad autoconoscersi che poi c'ha mille forme guarda allora io sono venuto da un weekend in questo monastero zen no in due giorni non ho sentito neanche una volta la parola dio mai poi esco giuro esco da lì accendo la radio il papa francesco dice che non si può fare sesso prima del matrimonio dove sono stato in questi due giorni ho detto ma è questo il presente o quello era il passato dove sono cioè perché mi sembra una roba veramente vintage questa che il papa dica non fare sesso prima del matrimonio poi questo papa poi questo papa che vabbè qua ci sono mille teorie perché vabbè non posso dire chi però sembra che ci sia una grossa guerra intestina all'interno della chiesa lo dicono un po' tutti tra due fazioni quella un po' più progressista un po' più aperta anche magari tutte le tematiche di genere di adesso e anche magari più disposta a fare outing rispetto a tutte le cose terribili che sono state fatte nei secoli che sarebbe lui in teoria esatto che infatti quest'uscita è un po' come spiazzanza sì ma è stata fatta quasi per dire abbiamo siamo andati troppo dall'altra parte facciamo un passo una concessione esatto di qualcosa di destra francesco di qualcosa di destra esattamente però se ci pensi che io mi senta in imbarazzo dire che voglio inventare perché me lo sento l'imbarazzo perché è la chiesa che mi dice la chiesa o chiunque rappresenti le religioni ufficiali ma cazzo è l'unica roba che l'umano deve fare secondo me sulla terra cioè poi tutto il resto procurarsi del cibo è trovare delle domande farsi delle domande raffinare le proprie dovrei ispirare facendo la domanda definitiva no? invece no arrivi andata sta la domanda abbiamo già la risposta non ci serve neanche la domanda anzi lo sappiamo ti chiedi perché sei qua ti ha messo qua Dio perché poi dopo no invece no io vorrei che la libertà intellettuale che poi ti morde la vita che ti viene voglia di andare in giro a cercartela il problema è che crea lo smarrimento non tutti sono pronti ma meno male meno male esatto è il problema che nessuno vuole smarrirsi ma per cazzo è quella invece è la cosa più bella che c'è fondamentale bella è un aggettivo un po' strano perché quando sei veramente smarrito è come quando sei sotto lsd e sia bello che brutto no oppure se sei oppure se non trovi il senso della vita cioè a me capita per fortuna poco ma ogni tanto capita di essere un po' depressino cioè di solito un giorno mi dure devo essere sono fortunato ripeto e quando sei lì dice un cazzo smarrimento io vorrei avere delle risposte oggi e secondo me è lì che fa presa la religione per cui dice cazzo mi sento smarrito mi sento inutile non ho un ruolo sociale quando ti capino quei giorni sto me lo vivo ho imparato me lo vivo ah ho capito sto meno vivo mi ammazzo un po' no ho capito che poi passa ne ho avuto una devastante per me perché è durata un paio di settimane per il mio quarantunesimo compleanno che era finito il lockdown di tutti poi mi sono beccato il covid a Natale le mie figlie sono tornate positive a febbraio io a marzo ho compiuto 49 anni che è un'età che puzza tantissimo di 50 età che mi pesa avere che sono nato per avere 40 anni e quindi sto arrivando a 50 anni la morte di mio padre che è il genitore più prossimo è morto a 67 anni quindi comincio ad abbracciare il senso della fine che è una roba che fino a quando hai 45 anni ma si 17 anni sono 17 anni me le ricordo quando facevo 17 anni poi non morirò come mio padre certo nel senso che come Mick Jagger saremo qua però voglio dire è verosimile che come è morto mio padre nel 67 possa morire quindi arrivo a 50 anni il covid comunque e ho avuto un paio di settimane di smarrimento non mi aveva neanche voglia di imparare a suonare la chitarra o di fare poi mi sono dato da fare nel senso che poi ti metti lì fai queste robe qua meccaniche poi c'è la vita per fortuna che ti travolge e e mi è passato però quando mi arriva quella roba lì che cazzo di senso è tutto qua è tutto qua cazzo la mia vita lavorare la famiglia la roba no e quello lì ho imparato che ogni tanto mi arriva una volta ogni due o tre mesi c'è il momento che sei in hiper hype poi magari due giorni non ti caga più nessuno non c'è niente da fare di così eccitante che ti viene tutto il peso del mondo io anche a me succede questo qua me la tengo mi succede tantissimo anche a me negli ultimi anni tantissimo no però come te non era mai successo prima quindi dai 45 in poi mi sta accadendo e cerco di viverla così immaginando di essere nel lato di scavare una buca che mi serve poi come come dire come trampolino come molla per tornare su cioè più vado nel profondo e più poi quando sarò felice sarò più felice e questa cosa poi riscontro che funziona sempre cioè dopo una giornata un periodo di crisi è solo questione di attendere vivere la tua vita cioè non cercare di truccare questo sentimento banalmente con i vizi l'alcol vabbè a parte che io non ho mai avuto nessun vizio eclatante però normalmente le persone la svilano con la televisione mangiano mangiano vanno a prostitute si drogano oppure che ne so cosa fanno ascoltano il bazar atomico ciao ragazzi siamo qua per voi no perché alcuni commenti che leggiamo sotto vorremmo dire raga fatemi vivi non puoi dire aspetta dopo due settimane che non c'era puntata avevo un attacco di panico datemelo ancora un po' e quindi ho capito quella roba lì tra l'altro l'ho capita da un pezzo tu pensa di Lewis Skay che è un comico americano che non c'entra niente né con la religione né con la spiritualità anzi è uno che sfotte tutti quelli che pensano a tutto ciò che è invisibile che invece raccontò un giorno questo esempio in cui sai quando sei fermo al semaforo rosso ti viene un attimo di smarrimento che dice la mia vita e ti viene da prendere il cellulare anche prendere il cellulare ad esempio social è un anestetico ideale ha provato una volta a non farlo e a vivere al 100% con tutto se stesso quell'attimo di profondissima smarrimento e depressione e ha visto che dopo è stato più forte a uscirne cioè ne esci più più cazzuto più 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 stabilizzato più più consapevole tu dicevi che non ti è mai venuto da me io ricordo invece perfettamente perché è una roba che mi è successa ad un'età strana perché poi ripeto sono degli episodi affolati cioè capite dei ragazzini che sono depressi o che hanno sempre no il mal di vivere io invece sempre avuto abbastanza un buon rapporto con la mia vita sempre felice non sono mai felice sempre ah dai che figata a un certo punto mi ricordo andavo a lavorare per mio padre ad Arluno io sono piemontese nella mattina mi svegliavo con gli operai questa Renault 4 me la ricordo tutti sudati queste sedili in finta pelle mi ricordo tutti sudati torno verso il paesotto alle 5 del pomeriggio si staccava in fabbrica c'è proprio cartellino salgo sulla macchina un ragazzo ho 17 anni ha mai avuto crisi d'identità vado verso questo paese che si chiama Ghemmia in autostrada sotto il solo con questi operai c'è avuto un momento ho detto ma cazzo ma la mia vita è questa roba qua quanti anni avevi? 17 lavoravo probabilmente il fatto che ripetesti lì facevo l'operario cioè bucavo l'alluminio tutto il giorno probabilmente quella roba lì mi ha devastato quel giorno avevo la fidanzata di cui ero innamorato ma ho messo in crisi anche cioè poi siamo stati insieme per tanti anni ancora non è che è successo niente qua però l'idea è la fidanzata è il lavoro è la famiglia è Ghemme cioè tutto cazzo e però capisci se non ci fosse stato quel momento probabilmente non ci sareste non lo so ma perché poi sono passati tanti anni cioè poi mi sono sentito molto bene lì pensavo di andare a studiare a Milano di venire a studiare a Milano ma per tornare a fare il professore lì cosa che non ho mai fatto e sono felice di non aver fatto però è stato potente perché non c'era qualcosa a parte aver bucato l'alluminio tutto il giorno che forse ha influito adesso pensandoci bene però ero felice c'era il torneo estivo di calcetto al mio paese all'oratorio la mia fidanzata ai miei amici lavoravo quindi mi sentivo avevo finito il superiore era stato promosso tutto bene pum mi è arrivata una fucilata su quell'auto che cazzo è che viene a rompermi i coglioni con questa potenza hai presente cosa che c'è su Netflix che sta andando bene non mi ricordo mai The Strange Games no The Stranger Things The Stranger Things ecco presente quando ti chiamano adesso non voglio spoilerare niente però c'è questo sotto sopra sì ecco una sensazione così occhi così e c'era qualcuno che mi chiamava che non sa il lato oscuro della vita e diceva ma ci sono fior ovviamente qua adesso Pucca mi lancerete i coltelli però io negli anni scorsi adesso un po' di meno ho letto un sacco di libri proprio di stregoneria magia dove proprio si dice che ci siano proprio degli spiriti che c'è delle entità che si possiedono e addirittura alcuni adesso vi farò ridere però ci sono proprio i libri di questi ma libri anche del secolo scorso che è uno dei modi per farli andare via questi spiriti è proprio fare dei gesti come levati con le mani come faceva mia nonna quando c'era la Pasqua quella prima del che hanno fatto il come si chiama che hanno cambiato la tradizione allora mia nonna doveva mandare via il demonio yes yes con la scopa esatto no non credo sia quello credo che il cervello sia una roba talmente complessa che ogni tanto si innescano che non c'è bisogno di chiamare in causa gli spiriti però l'idea banalmente di fare questi movimenti o di attivare un rito no la negna è come io che pedalo o cioè l'idea che fai qualcosa ho letto un libro che si chiama la trappola della felicità e c'è questo trucco che usa questo tipo che è simpatico quando hai dei pensieri deprimenti tipicamente ricorrenti e demotivanti devi provare a canticchiarli in testa cioè tipo mi sono rotto i coglioni di andare in questo finito devi farli diventare una musica un suono perché allora capisci che è un'entità separata da te cioè è un pensiero non sei tu quel pensiero e ridicolizzandolo comunque astraenderlo e scusa astraendolo astraendolo dalla tua dal tuo centro canticchiandolo lo sottolinea ancora di più questo distacco no bellissimo è un altro trucco che si usa e no cioè io però ripeto secondo me adesso sto imparando a suonare la chitarra e c'è questo canale youtube ho visto che è suonato anche con Mao che io conosco da tempo in membro oramai è un po' diciamo passato lui suonava con Andrea Pezzi quando MTV era il centro dell'universo ma cos'è che hai fatto hai suonato dov'è che eravate? al salone del libro a Torino e poi ho suonato ma cos'è che avete suonato? ma va no sono curioso lui suonava io ho fatto un pezzettino ma va ma ragazzi io sono proprio ancora a fare gli accordi il triangolo suonare no no la chitarra e siccome ho scritto un podcast per Audible che si chiama il genio quotidiano si ho visto e che e che tra le tante siccome il genio quotidiano sono tutte quelle invenzioni che ci hanno cambiato per sempre diciamo che fucking genius focalizza l'attenzione sulla persona che ha inventato quella cosa quindi racconta la sua biografia Albert Einstein Marie Curie o Thomas Alva Edison e il genio quotidiano invece parla anche degli inventori ma parla più dell'oggetto dell'oggetto di uso quotidiano per cui la lavatrice forse anche come nel tuo libro si bravo si alla fine è tratto anzi bravo è tratto da questo libro ho cambiato un po' perché un podcast è una cosa e uno scritto è un altro però fondamentalmente come nel libro ci occupiamo degli oggetti e di come l'umanità è cambiata in funzione di quegli oggetti tra i tanti oggetti che qua non ho scritto ma che ho scritto che ho registrato nel podcast c'è la chitarra perché stavo imparando ho detto ma dai fammi studiare da dove arriva bellissima storia da dove arriva come si è sviluppata così e siccome era il più sexy ho fatto l'ascensore che è bellissimo magari dopo ne parliamo ho fatto la chitarra ho fatto alcuni di questi che sono anche nel libro la chitarra l'editore storia libera ha detto beh ma portiamolo con Audible al salone del libro e ti presento Mao mi hanno presentato Mao con Mao sul palco tu racconterai la storia della chitarra e lui ti suonerà dietro però siccome sapevano che stavo imparando a suonare la chitarra ho detto portati la chitarra che suona io non l'ho portata ma ne ha portate due lui mi sono trovato in mano sta chitarra elettrica al salone del libro e ho dovuto fare un pezzo dei Daya Streets che si una roba ma veramente è suonata male ci sono anche i video online se volete però anche lì vedi è mettersi smarrirsi perché trovarsi davanti un grande musicista come Mao un pubblico c'erano 300 persone quindi non è anche un pubblico piccolo chiaro non è San Siro però trovarti in mano la chitarra davanti a questa gente qua dopo sei mesi che suonavo è stato emozionante è stato bello figura di merda perché ho sbagliato due o tre accordi già non sono bravo col ritmo perché sto imparando e poi lì ti emozioni pensi troppo la musica deve essere flusso cioè se cominci a dire tu devi mettere le dita basta già non comunichi più come mai ti ha preso sta cosa della chitarra sono curioso cos'è che ti ha fatto scattare non ho mai suonato niente in vita mia alle medie suonavo pure male il flauto però ho fatto da moderatore da host al TED di Barletta degli amici mi hanno chiesto di moderare di fare da da come si chiama da presentatore bravo al TED di Barletta sono degli amici e tra i tanti ospiti bellissimo TED grandi personaggi come tutti i TED come molti TED e ha chiuso o tra gli ultimi è stata una ragazza che si chiama Niv che ha fatto amici è arrivata secondo o terzo una ragazza marocchina una cantante che salita allora io come tutti i TED se li avete fatti visti comunque al di là che ero il presentatore quindi vedevo la tensione che c'era dietro al palco quindi vivevo in un flusso di emozioni c'era stato un prete c'era un filosofo c'era il direttore degli uffizi cioè viene emozionato e travolto da questa girandola di intellettuali pensatori di tante campane e mi sono emozionato come ci si emoziona a un TED cazzo sale sta ragazza che non è neanche che dice il mio cantante preferito non la conoscevo neanche non guardo amici non seguo la musica contemporanea sale sta ragazza attacca il jack alla chitarra e dà una schitarrata rapito è stato così da una di amici io mi immaginavo sai vai vedere è una brava ragazza una bella voce ma è proprio l'idea che la musica cazzo è matematica fa vibrare delle robe profondi ci sono i bassi gli alti accostarla accostarla a tante parole magari io dico a volte insegna di più una melodia di due ore di monologhi lo dico per la prima volta nella mia vita e lo dico in anteprima per voi il bazar atomico tanto non lo porterò mai a casa questo progetto la mia idea è proprio fare questo cioè provare a raccontare le storie che racconto con fucking genius o celebrare la vite l'occhiale il bicchiere che sono grandi invenzioni con una canzone cioè provare a scrivere una canzone su un oggetto di uso quotidiano parlando di tecnologia di scienza non ce la farò mai perché faccio fatica ancora anche solo a mettere insieme tre accordi però il mio obiettivo è tra dieci anni scrivere una canzone sulla vite a brugola io lo dico così se giovanotti suona canta ecco un po' l'idea giovanotti che a me piace tantissimo lo seguo in tutto quello che fa scrivere una canzone non più sull'amore ma sulla vite a brugola o sulla lampadina led o sul microfono o l'amplificatore o sul tavolo provare a portare quell'emozione che la musica riesce a darti sul mondo che è un po' più difficile perché amore malinconia parlare del filetto della brugola o del piombo che c'è nel bicchiere non è banale e sai quanti pianti con quell'album vediamo deve essere gli album concettuali Affect Twin fa anche queste cose qua dopo mi sì certa musica elettronica astratta Trans Europe Express Kraftwerk parla di un treno c'è quello che parla della radioattività esatto no ma ci sono ci sono tentativi e anche riusciti di cantautore che ha scritto storie Andrea ad esempio non è che parla solo d'amore racconta delle storie anche di altro però mi piacerebbe provare a raccontare la tecnologia o la scienza o un evento scientifico con una canzone questo è il mio obiettivo poi ripeto oramai quanti anni hai che c'è a Fuckin Genius? è dal 2016 porco giusto hai notato delle differenze rispetto alla maniera in cui selezioni i geni di cui parlavi perché ho visto che adesso trovi tante figure femminili ti sei anche tu accodato a sta moda della gender no no devo dirlo l'editrice l'editore le storie libere Morgana in realtà il podcast più ascoltato io non è Morgana però diciamo Morgana è la murgia quindi la murgia è molto più potente di me dal punto di vista della comunicazione c'ha 300.000 400.000 follower scrive su Repubblica è un altro livello e l'editrice Rossana De Michele è molto attenta essendo donna molto militante nel mondo del femminismo ma non di questa la moda c'è da sempre pensa giustamente che le donne debbano avere lo spazio quindi mi ha sempre chiesto ogni tot uomini di mettere una cioè è diventato quasi un contratto non scritto ma che ogni tot almeno ogni sei una devo metterla ti sei stupito? hai trovato delle persone ma innanzitutto se mi avessero detto fai non l'avrei mai fatto cioè carta bianca non avrei probabilmente avrei trovato Marie Curie probabilmente avrei trovato sulla mia strada ad A Lovelace ma non sarei andato a cercarmi l'Agnese non sarei andato a cercarmi la Noether matematica tedesca degli anni 30 bravissima non sarei andato a cercarmi quella che faceva l'attrice quella che faceva l'attrice è talmente sexy come storia che ci sarei arrivato quindi è giusto a proposito di Quaterosa che gli uomini così come le donne incentivino chi e supportino chi racconta storie di uomini e di donne non deve diventare una moda per cui le donne sono più brave le donne sono no le donne e gli uomini per me una rivalsa anche lo faccio sono contento e credo che sono contro le Quaterosa ma sono contento di trovare storie di valore anche tra le scienziate che purtroppo sono meno ma non per colpa loro perché hanno studiato meno molto motivante però vedere che nel settecento ci potevano essere donne o Laura Bassi Laura Bassi cazzo che questa da sola chiede al papà ma capito lì a me ne frega un cazzo che sia una donna è che è un essere umano un uomo sapiens 14 anni a Bologna nel settecento dica papà come si fa a portare l'illuminismo a Bologna ma cazzo quando le mie figlie credo mi chiederanno come si può comprare lo smartphone con tutto il rispetto che ho per le mie figlie ma quella è una fucking genius cioè una che dice non voglio portare l'illuminismo a Bologna e si impegna per farlo arrivare a me ne frega niente che sia una donna mi interessa che sia un uomo sapiens o l'Agnesi ma quindi secondo te possiamo dire che non è vero che c'era un sistema patriarcale che quindi se una donna valeva veramente veniva fuori o comunque c'era c'è c'era c'è purtroppo ma guardate ma io sono patriarcale se ci pensi mi viene spontaneo a pensare mi viene spontaneo ho dei bias culturali che mi invitano e ci sto attento perché ho delle figlie femmine vorrei che fossero cazzute o cazzute già maschile hai capito figute figute che fossero figute perché banalmente e sto cercando di distruggere questa roba se ci si trova con la famiglia nel weekend in campagna i maschi giocano a calcio le femmine fanno altro poi siccome io gioco a calcio gioco con i miei nipoti e quindi mi perdo cosa fanno le mie figlie ma non competono cazzo non sono lì a combattere per qualcosa costruiscono capanne fanno robe raccolgono bastoncini fanno qualunque cosa di creativo ma non competono cazzo le mie figlie non competono come competono i maschi perché i maschi ti butti un pallone e si ammazzano questa roba qua sul mondo del lavoro su una serie di cose ma anche sul modo di essere semplifica perché competere vuol dire anche rispettarsi dirsi tirarsi una testata dare una botta l'abbiamo fatto tutti quando abbiamo giocato le donne su questa roba qua meno fisica poi costruiscono hanno costruito speriamo non costruiscano una serie di infrastrutture mentali più sofisticate e complesse rispetto all'uomo che dicevo senti mi hai rotto il cazzo vaffanculo te e le tue gelosie rispetto al capo sei un ruffiano le donne lo dicono le donne stesse quando si incriccano tra di loro poi non le sblocchi più perché non hanno imparato a tirarsi le scarpate sulle garrette quando ero una ragazza ma questo non vuol dire che non lo sappiano no no c'è di nuovo una cosa di Louis C.K poi ci dicono questo non vuol dire che non lo sappiano fare vuol dire che la cultura calcistica e non pallavolistica banalmente dove le donne possono giocare è imperante quindi tu c'è un campo da calcio e non un campo da pallavolo e questa roba o da basket e questa roba qua incentiva il fatto che la donna non abbia quindi bisogna romperli questi paradigmi le mie figlie fanno atletica io vorrei che mordessero la pista per battere il compagno ma non per superarlo e umiliarlo per superare se stesse e questa roba qua però si fa fatica a fare e quindi no è proprio tutto il contenuto non quello che dici si dice che la forma della comunicazione verbale è il 3% o il 30% e se tu vivi in un mondo in cui apri i libri e trovi Gesù Cristo Dio il Papa Garibaldi Napoleone nel frattempo la Serie A calcio maschio la nazionale si festeggia avete mai visto festeggiare per strada una squadra femminile? mai tutte queste robe qua fanno sì che le figlie femmine vivano una sensazione di secondo piano purtroppo lo dico perché ci perdiamo la metà della potenza dal punto di vista della politica va a funzionare esattamente l'opposto ultimamente adesso sicuramente siamo ancora all'inizio però abbiamo la Presidente della Comunità Europea che è donna in Germania abbiamo avuto non lo vogliamo dire che uomini e donne sono fatti diversamente hanno ormoni diversi quindi hanno inclinazioni diverse no comunque quello che volevo dire è un'altra cosa di Louis C.K che lui parlava della differenza dei danni che fanno i maschietti rispetto alle femminucce i danni che fanno i maschi li puoi misurare in dollari come un uragano invece le donne ti rovinano dentro ti creano i bambini girls are fucked up boys fuck things up ah bella ma per fortuna il tema è proprio questo di rispettare la differenza la differenza tra il fatto che abbiamo i muscoli e il fatto che non ce l'hai il fatto che hai il pisello e il fatto che non ce l'hai il fatto che hai le tette e il fatto che noi non ce l'abbiamo il fatto che hai la vagina questa roba qua cambia cambia il modo di porsi rispetto al mondo oggi ci direbbero gli asterischi che non è vero puoi essere uno e l'altro però alla fine da fisico misuro che quando io quando io ero ragazzino che lavoravo con mio padre ogni tanto tiravo sulle putrelle ero ragazzino fino a 14-15 anni non avevo i muscoli a un certo punto cazzo ho tirato su una putrella con mio padre ho guardato il muscolo e mi è uscito cioè alle mie compagnie non c'erano le tette e a me è uscito il bicipite e sta roba qua introduco una parola del libro che è dispositivo chiaro che il bicipite dispone comportamenti ma dispone anche comportamenti mentali avere i muscoli è diverso che non averli cioè sentire che hai una forza nelle braccia questo non vuol dire che lo devi usare non è che mi sono messo a fare ma io ho scoperto di essere maschio uomo perché mi sono usciti i muscoli è la natura che mi li ha dati non è che sono andato in palestra a un certo punto sollevando putrelle mi sono uscito questa roba qua e io il problema è che adesso siamo in una situazione terribile in cui se qualcuno mette un annuncio di lavoro riferito solo maschi perché è un lavoro da magazziniere viene tacciato di razzismo e però se metti un annuncio immobiliare a solo donne riferenziatissime allora quello va bene esatto no no ma infatti credo ma è sempre così la vita è un pendolo adesso siamo di qua io spero ma credo che tutti quanti vorremmo che sia così anche le femministe si torni in una situazione un po' più bilanciata sapendo che arriviamo da di là quindi quando i pendoli oscillano non è che cazzo è una società iper maschilista e si ferma a neutrale magari e no adesso si va verso il femminismo totale per cui non puoi dire neanche sei una bella ragazza perché se no ti sto offendendo e adesso poi torneremo di qua speriamo che l'oscillazione poi si smorsi e si torni a un equilibrio per cui le donne sono le donne gli uomini sono gli uomini i maschi scusa i maschi sono i maschi le femmine sono le femmine e che in questa differenza ci arricchiamo e non che uno si deve schiacciare sull'altro io devo essere simile a una femmina per cui adesso questa roba delle unghie che per me ci sono donne che chiedono gli uomini di mettersi lo smalto altrimenti sei troppo maschile veramente è così ultimamente ne parlavo con loro ho frequentato una ragazza russa e praticamente lei ci ha conosciuto tramite questo podcast e praticamente mi ha detto no ma in realtà io ho conosciuto prima il podcast di Fedez perché una mia amica che parla italiano e russa mi ha detto secondo me dovresti imparare l'italiano guardando questo podcast poi però ho visto che il conduttore aveva le unghie colorate boh mi è sembrato una cosa un po' troppo allora ho guardato se guardavo voi mi proponeva anche scusate guardavo Fedez mi proponeva anche il bazar il bazar mi è piaciuto scelta a te io gli ho detto ma in che senso scusa non ho capito mi guardava così ma dai ma non capisco beh sì in Russia se vai in giro così ti picchiano come ti picchiano mi faceva il gesto così in Russia dei bici e questo però mi ha fatto venire comunque i brividi cioè io adesso siamo qua e noi lo facciamo sempre un tema anche di difesa nei confronti appunto di questo oltransismo femminista che già anche tutti gli isti ismi non ci piacciono però effettivamente poi quando rivedi come era prima dici beh neanche così andava bene come dicevamo in Russia adesso se vai in giro con le unghie pittate vieni picchiato adesso nel 2022 che è una roba ghiacciata e ognuno può essere quello che vuole la sua sessualità la può esprimere quello che vuole però ripeto arriviamo da un mondo che era iper maschilista e te ne rendi conto dal fatto che la storia di Marie Curie che si risposa con un uomo che era separato o che meglio si era sposato viene attaccata dalla comunità scientifica dovrebbe essere quella illuminata dicendo che se era poco di buono non volevano neanche dargli il premio Nobel proprio perché aveva si era fidanzata con un uomo sposato oggi quante volte capita e ci sembra una roba normale capitano che le relazioni nascono in modo che non potessero studiare quindi eravamo di qua adesso siamo di qua io spero veramente che si possa aprire un dibattito che neanche stare tutto di qua che gli uomini non possano essere quello che sono in natura che hanno il pisello e i muscoli ma rispettiamo questa cosa non vogliamo che questa cosa sia mostrata muscolarmente va bene anche perché poi alle donne manca l'uomo ma non lo so io non lo so ma loro ti direbbero non è vero no ma il maschio alfa alla fine io non me lo sento dire no non lo so quello può essere un pregiudizio chiediamola loro no infatti chiediamo delle donne anzi la prossima donna che viene e poi dovreste fare un campione di centinaia di donne perché ogni donna è diversa come giusto che sia però adesso siamo di qua ed è giusto che ripeto lo dico per le mie figlie è giusto che ci sia un dibattito acceso sul femminismo e sull'essere donne e sulle opportunità che hanno benissimo però siamo d'accordo credo tutti anche le più agguerrite femministe che non possiamo stare in questa condizione in cui dobbiamo usare gli asterischi con tutto il rispetto che ho per chi li ha inventati o per perché io siamo diversi cioè ci sono proprio due generi ma biologicamente cazzo non possiamo sarebbe un delitto negare il fatto che siamo animali siamo parte biologica e parte culturale comunque una frase che ho letto in una delle tue interviste ultime quando è bellissima che dici il design è lì dove ci sono le parolacce adesso ne abbiamo detto una parolacce ci vorrebbe una tecnologia che ci aiutasse anche su questo sulla capacità di convivere tra uomini e donne non so un'idea una cosa io sono una cosa che non posso dire ma non c'entra niente con questo però sì no dai no no non posso però però lì c'è lì c'è lì c'è lì ci sono le parolacce nel senso che io veramente faccio fatiche e non vorrei che le mie figlie mortificassero la loro femminilità o la mascolinità di qualche loro compagno perché culturalmente adesso abbiamo il contrario del bias del maschile come mi girano i coglioni lo posso dire che ci sono state donne nel passato che sono state centinaia di volte più mortificate rispetto agli uomini perché oggi rispetto a quello che hanno vissuto le donne dell'epoca noi maschi è un'acqua di rose sì dobbiamo stare attenti a quello che diciamo ma c'era gente che non poteva studiare nel 700-800 non milioni di anni fa cioè migliaia di donne non hanno potuto accedere al sapere perché c'era una cultura maschilista chissà quante maricurici siamo persi beh come come lo vediamo a tuttora in un certo mondo islamico pensiamo all'Afghanistan lo stiamo vedendo in diretta cioè che cosa vuol dire tornare a quel è assurdo è assurdo detto ciò ripeto mi piacerebbe ma probabilmente non è possibile per quell'oscillazione che vi dicevo che si tornasse a almeno in occidente non in Afghanistan a dialogare tra maschile e femminile a trovare a trovare una forza di sotto è quotidiano questo tema lo vedo cioè anche la guerra in Ucraina alla fine o sicuramente ci sono dei connotati di geopolitica dove non ci addentreremo perché non siamo specializzati in questo però il fatto che poi il grande patriarca della chiesa ortodossa dica no perché noi alla fine siamo diversi noi siamo per la famiglia normale basta che cazzo c'entra che cazzo c'entra in base a un paese cioè comunque entra in tutto sto tema ed effettivamente è una cosa che veramente ci divide però vedi che torniamo con coerenza perché non dobbiamo parlare di femminismo però di nuovo è la relazione che conta cioè la qualità emerge tra il soggetto e l'oggetto decidete voi se siete maschi il soggetto siete voi e l'oggetto è la femmini nel senso che è fuori da voi se siete femmine il soggetto siete voi l'oggetto ma la qualità è qua che appare è nella relazione nella connessione eh sì tesi antitesi sintesi che poi anche uomo donna figlio cioè no è lì è lì quel meccanismo che se neghiamo la nostra mascolinità viceversa neghiamo la femminità non nasce la relazione si impoverisce la relazione la cosa agghiacciante è che si è burocratizzato tutto quanto nel senso che tutte queste etichette no di tutte le varie modalità di approccio dell'essere umano rispetto alla sessualità si è perso un po' la misura nel senso che sempre continuo a citarlo perché è stata un'esperienza evidentemente importante quando sono andato al monastero la badessa del monastero lei gestisce ogni estate tra l'altro dovresti mandare alle tue figlie un campeggio per ragazzi bellissimo in un impianto nuovo appena fatto bellissimo ma in Italia? sì a Fidenza ecco la Fidenza si chiama Fudenji con la J e lei a un certo punto fa beh a un certo punto ha detto ragazzi ragazzi dai andiamo dentro dove si fa la sala meditazione pillo la lavagna e mi ha spiegato un po' come si suddividono tutti questi generi L, G, G, B, D, B, H, B non bias adesso non mi ricordo più com'è e lei non l'ha capito cioè hanno cercato di spiegare poi lei alla fine gli fa la badessa la domanda di fare sì ma i figli poi com'è che fate a farli e lei fa ma che se i figli si prendono da un altro gli affitti li prendi li crei in laboratorio ed è uno sbarrimento che anche di fronte a una persona così saggia perché stiamo parlando di una badessa quindi una che ha fatto un percorso decennale di crescita interiore pazzesca che conosce tutte le scritture con una concentrazione incredibile anche lei è smarrita in questo proprio perché si cerca di risolvere un problema codificandolo in queste infinite rivoli che mi sembra un po' come fare il regolamento per accedere al bonus edilizio 110 è un casino è un casino però ripeto e non sono io a 50 anni a poter giudicare cosa è giusto ci saranno i ragazzi giovani a trovare l'equilibrio nuovo non è mai stato che penso a mio padre che doveva capire internet non ce l'avrebbe mai fatto avrebbe limitato un sacco di cose quindi sono consapevole dei limiti culturali e biologici che ho nel capire questa situazione però una cosa è certa quando uscigli da una parte all'altra non è giusto da dove arrivi non è giusto dove sei adesso dobbiamo smorzare e trovare un altrimenti io non posso ho la fortuna che ecco devo dire che le donne che si occupano di questa cosa rispettano la mia figura nel senso che mi chiamano tantissimo adesso devo tornare a fare eventi di donne che parlano tra di loro faccio il moderatore quindi è una roba che mi viene riconosciuta e che ripeto me la porto a casa e dico cazzo vuol dire che questa mia comunicazione che non è veramente è volontà di capire non dire è giusto così è giusto cosa è trovare qualcosa qui in mezzo che porti valore a tutti e però ripeto non voglio dire che ho delle risposte non so quale sarà l'equilibrio nuovo però gli asterischi se non è sono di qua e qualcuno che ti fischiava per strada cosa che quando ero ragazzino ho fatto anch'io quando vedevo una bella ragazza perché era il mio baia ho visto i miei genitori farlo i miei genitori ho visto i miei amici farlo io mi vergogno non avrò mai il coraggio di dirlo ma ho fatto le peggio cose a 14 anni che se mi rivedessi adesso mi pirei schiaffo ma io l'altro giorno in un aeroporto ho visto uno con scritto sulla figa e chi non la castiga che è una roba no veramente in un aeroporto viva la figa e chi non la castiga ho detto ma mica ma come rischia la vita e che nessuno io non so questo qua ha fatto un viaggio nero con scritta grossa dietro quindi ripeto arriviamo di qua e faceva schifo beh c'era il marchio di Valentino Rossi c'era le magliette viva la figa voglio dire se neanche dici uno adesso non potrebbe VLF infatti un po' un po' accessivo forse un po' poco sofisticato la figa secondo me non lo so non lo so anche Giovanni Otti dice la scritta viva la figa è di una bellezza che non si capisce no ma infatti è pop cioè non so come dire finché rimane una cosa un gesto gogliardico a me piace la gogliardia cioè il puro dire noi siamo qua abbiamo scherzato sui russi mentre muoiono a miglia non è che non si può scherzare si deve scherzare viva la figa è bellissimo cioè io credo che quando sono con loro dai perché dovevamo perderci il proseguo di quella frase è devastante perché tu vedi la passività della donna no ma non la dico e chi non la castiga no però certo quella roba lì ma guarda che negli anni 80 quella frase lì era must have non potevi respirare se non la dicevi no? adesso se ci pensi eri qua eri cioè però dai cioè fra di noi possiamo il problema è che quando poi circondano una ragazza è una cosa agghiacciante però fra di noi si può noi dobbiamo noi ventunesimo secolo dobbiamo cominciare a capire che le parole hanno un peso che i contesti banalmente la mia analisi prima che era un'analisi stupida ma cioè le donne non giocano a calcio non competono questa roba qua cioè che non vuol dire che devono diventare maschie ma sai che io vuol dire che devono trovare un gioco se non gli piace il calcio se il calcio è stupido come giustamente possiamo pensare che però le metta a competere con se stesse perché altrimenti rimane una società in cui chi fa carriera che lo può fare competendo o non competendo però tipicamente un po' devi spingere se vuoi fare carriera ma non contro gli altri con te stesso cazzo domani arrivo qui poi domani provo a fare questa roba qua come quando vai a fare sport questa roba fare sport puntare di più sullo sport femminile su cioè su tutti questi elementi che sono raffinati rispetto a togliere solo la parola no e lo slogan sono cose che dobbiamo fare adesso insieme alle donne e loro con noi perché noi poi siamo genitori di bambine come nel mio caso io vorrei essere attivo nell'educare le mie figlie in modo propositivo che avessero una vita ricca quanto ce l'ho avuta io quanto ce la può avere un maschio del ventunesimo secolo e siamo ancora lontani dal farlo ripeto aprite il libro aprite qualunque libro di storia e purtroppo imperatori scienziati tutti maschi come fai come fa mia figlia a dire voglio fare voglio cambiare il mondo l'hanno cambiato sempre gli uomini i maschi ma chi ha detto però che una donna debba voler cambiare il mondo allora perché è un uomo perché è un uomo sì tantissimi studi io non li posso citare a memoria ma sono stati fatti sui neonati cioè donne e uomini hanno diversi interessi già da quando sono la competizione è una cosa più maschile più maschile che è femminile dobbiamo far fare alle donne quello che vogliono fare se non vogliono essere competitive perché le dobbiamo obbligare dobbiamo fare sembra che ci sia una struttura maschile parliamo di bambini cioè di bambini da tirar su ripeto è complesso e sofisticato il tema e ci vorranno secoli non basta dieci giorni per cambiare la mentalità però a me sembra da papà di due bambine che oggi le bambine abbiano ancora tante difficoltà da superare e quindi ho detto alla domanda di dieci minuti fa perché parlo di scienziate perché vorrei che come tuo figlio ascolta fucking genius e si riconosce in Alessandro Volta in Benjamin Franklin in Albert Einstein ci fossero delle bambine la sua preferita è Marie Curie che ascoltano Marie Curie e dice cazzo voglio fare voglio fare anch'io come ha fatto Marie Curie voglio fare anch'io come ha fatto Laura Bassi voglio fare anch'io come ha fatto Emmy Noether e purtroppo ripeto aprite il libro di storia stasera dei vostri figli e gli assiri i babilonesi gli egiziani i faraoni Cleopatra Giovanna d'Arco e Marie Curie bruciata ma infatti però tu sei appena tornato visto su Instagram da Copenhagen lì è diverso o uguale a qua a Copenhagen non ho avuto abbastanza tempo per vedere questa differenza in effetti non ci ho fatto caso però mi ricordo in Norvegia che arrivo in un porto perché c'è un pieno di fiordi c'era un porticiolo dove prendevo un traghetto e c'era una ragazza proprio piccolina con un telecomandone in mano che muoveva la piattaforma per muovere per far salire il traghetto e mi ha fatto impressione perché è arrivata questa ragazzina aveva avuto 19 anni 20 anni magrolina biondina carina con questo telecomandone che in Italia tipicamente ce l'ha in mano adesso facciamo un luogo comune il panzone abbronzatissimo perché è sotto il sole tutto il giorno col gilet arancione invece questa era e c'era questa roba tecnologica che spostava le piattaforme e questo ti dà la misura di una società avanzata in cui che tu sia donna uomo il telecomandone te lo do in mano a te e quindi in Italia purtroppo nei paesi mediterranei abbiamo ancora l'idea che è la donna la mamma chioccia che si cura dei bambini e ce l'abbiamo un po' dentro tutti però c'è Jordan Peterson che cita sempre il paradosso scandinavo in realtà se vai a vedere i censimenti poi ero andato pure io a vederlo perché non ci credevo il censimento della Finlandia fa vedere che nelle università di tipo scientifico il 90% sono maschi il 10% sono femmine i lavori invece di cura delle persone di educazione 90% donne 10% uomini ma infatti l'obiettivo non è massimizzare un equilibrio che non è in natura ma facilitare quello che c'è nella natura fai quello che ti pare se lo vuoi fare fallo e se sei bravo a farlo lo fai però è come tu prepari l'aspirazione a cioè ripeto se giochi a calcio sviluppi un certo tipo di attitudine nella competizione che non so se è maschile o femminile ma sviluppi quel tipo di competizione se non ci giochi o se non c'è una piattaforma dove tu puoi metterti in gioco e superare te stessa raramente ti verrà voglia di quindi ripeto stiamo entrando in un terreno veramente complesso però la risposta la risposta alla tua domanda è perché ne parli un po' perché l'editore me lo chiede ma sono felice che me l'abbia chiesto perché se avessi e lo ammetto con tutta l'onestà che se mi avessero detto fai il cazzo che vuoi nel senso che lo faccio perché non è che mi dicano fai questo fai quello però mi ha detto ogni volta mettiamo dentro una donna ed è difficile perché c'è molta meno letteratura i personaggi sono meno fighi cioè Albert Einstein ma proprio perché era più libero di fare il cazzo che voleva fare l'ufficio brevetti andare di là cioè una donna se vai a vederti anche le biografie fighe che ho trattato di queste donne sono comunque schiacciate dai genitori schiacciate dai mariti nel bene o nel male hanno già una vita se vuoi studiare farai la monaca no? oppure anche l'Agnesi col padre che la usava quasi come come uno spettacolo teatrale per diventare sa sei lingua a 14 anni venite a vedere il circo però gli è andata bene perché questa cosa all'epoca andava di moda e quindi il padre che comunque fu una figura importante per l'Agnesi e in qualche modo gli ha permesso di studiare però è il padre che perché lei voleva fare tutt'altro nella vita voleva fare la sua monaca e poi dopo è stata la direttrice del più albergo triulzio cioè stiamo parlando di gente che comunque le capacità le aveva i talenti le aveva deve trovare il contesto dove svilupparlo quindi ripeto la domanda era perché lo fai? perché servono esempi per ragazzine come le mie figlie e tante ascoltatrici che mi seguono per fare meglio di quello che abbiamo fatto nel novecento dopodiché se è giusto che facciano le scienziate oppure si prendano cura degli altri oppure noi ci prendiamo cura io non lo so non lo so ci deve essere una piattaforma dove uno può germogliare purtroppo fino adesso le donne non hanno potuto germogliare come abbiamo germogliato noi fiorire perché noi dove ci buttavi ci buttavi nessuno ci diceva no lì non puoi stare qua non puoi farlo e quindi adesso bisogna costruire queste condizioni affinché questo avvenga come le costruiamo adesso mi sembra un po' troppo esagerato dall'altro lato però arriviamo di qua e quindi ci sta che siamo di qua adesso secondo me quello che deve succedere auspichiamo un po' in tutti che succeda è che ci sia un dialogo neutro sul maschile e il femminile non il maschio è cattivo è brutto e stronzo perché lo è da sempre io non mi sento così io vorrei rispettare tutti mi piacerebbe farlo sapendo che ho dei bias antichi profondi secondo me le persone se ne accorgono tant'è che oramai ti invitano a fare la qualsiasi Max finché non faccio uno scivolone no pazzesco evidentemente passa di te noi ne abbiamo parlato spesso anche chissà perché spesso parliamo di Massimo perché il fatto che sei tornato non è un caso perché hai la capacità di inserirti in maniera rispettosa e quasi come dire come si dice lubrificante fluidificante fluidificante sì anche morbida tu sei lubrificante no tra le asperità dell'umano perché che non è una cosa da poco ma in tutti i campi perché adesso ho visto che hai fatto anche un podcast sulla serie Sky Diavoli sulla finanza e poi ho visto che insomma sei stato anche a Salone del Mobile l'hai detto con Siemens e con Toyota facciamo un po' di spazio secondo me ho una ragione ho trovata sicuramente nel tuo atteggiamento ma anche nella tua voce cioè il fatto che oramai ti chiamino a presentare dei podcast anche che non c'entrano niente con la fisica o con la scienza è perché come è successo a Werner Herzog così lo cito anche questa puntata hai una voce che spacca quando si sente nei podcast hai mai studiato cioè ti viene io non credo sia la voce credo che sia l'intonazione è come dici le cose non lo so nel caso di Fucking Genius c'è una fusione totale tra il messaggio che mando e quello in cui credo che l'innovazione è la roba più figa del mondo che quando una donna che è un Homo Sapiens nel 1723 chieda al padre papà come si fa a portare l'illuminismo a Bologna hai vinto cioè cambi il mondo e questa roba qua quando la dici che non è il significato è proprio il senso che tu metti in quella frase secondo me arriva quel 70% di non detto che le persone sentono e non so come perché è una magia perché dici cazzo alla fine la comunicazione è quello che dici no è come lo dici è come fai vibrare le corde vocali è come quanto ci credi il tuo podcast ha un successo clamoroso perché evidentemente passa questa passione esatto poi secondo me piccola critica ci sono anche dei problemi di audio perché delle volte questo effetto che si sente radiofonica non si sente cioè non capisco infatti il mio figlio mi fa papà non capisco alza storie lebre cambiate un po' il mix di sto podcast che figo noi ci teniamo vedi che c'è questi microfoni da paura poi magari no no però sì ripeto cazzo passa una passione debordante cioè super rock una roba un'ondata di passione che arriva anche lo dicevamo un poco prima di registrare la puntata anche ai bambini piccoli ma piccolissimi come il mio che ha otto anni che voglio dire di logica non potranno mai capire tu ogni tanto vai un po' più nel dettaglio rispetto a alcune puntate sono un po' più specifiche alcune addirittura non mi ricordo quale ma fai proprio le formule matematiche Leibniz forse cioè io mi dicevo ma io non sto capendo un cazzo io chissà mio figlio cosa capisci ma lui piace il suono x alla seconda fra bravo infatti ogni tanto la persona che mi segue in studio mi dice ma se stava qua non l'ho capitato no a un certo punto ti sei lanciato in una puntata proprio hai cercato di dimostrare un teorema di geometria ma io qua non so perso ma sì ma è una formula magica cioè devi capire come è fratto x di Antonio Rezza esatto secondo me però sì ripeto per me è stata anche una sofferenza a un certo punto questa roba dell'empatia possiamo chiamarla così che è diversa dalla simpatia perché dici cazzo comunque c'è una laurea in fisica mi sbatto dal mattino alla sera a leggere i libri cerco di trarre e poi ti dicono ma ti chiamiamo perché comunichi qualcosa che va oltre però è un quel talento no non dici cazzo nel curriculum come fai a dire sono empatico cioè la gente no immagina che uno non ti conosce devi presentare non so massimo temporelli se la laurea in fisica è una cosa codificata se dici so parlare con gli operai con le prostitute con con i mafiosi e no e dici ma che cazzo è sta roba come la scrivi su un curriculum cos'è no e però succede e non so perché nel senso che mi forse per le origini che ho che sono una volta si sarebbe detto umili nel senso che mia madre era una parrucchiera io lavavo i capelli nel negozio di mia madre quando ero a 14 anni quindi l'atmosfera di un negozio di parrucchiera a 14 anni 12 anni poi andavo con mio padre che ero con gli operai non stiamo parlando di operai specializzati stiamo parlando di gente che da cui ho imparato più di quello che ho imparato all'università cioè quando vivi la vita così bello quindi questa roba qua probabilmente se poi dopo cioè se rimani con la roba lì ripeto i miei fratelli fanno quello quindi sto attento a dire quello cioè rimani con la roba lì cioè parli con gli operai se provi a dire da fanculo vado a fare l'università poi quella roba lì se te la porti dietro probabilmente diventa un'abilità perché poi parli per tutti no ma tu hai una cosa innata cioè ad esempio quando noi diciamo delle cose tu le ascolti veramente che non è una cosa da poco c'è gente che si c'è gente che tu alla quale tu parli sembra che ascolti ma non recepisce quello che dici tu sei una persona che si connette all'altro e questa cosa qui crea le relazioni in automatico il famoso networking che tanto va di moda negli imprenditori un conto è se fatto in maniera meccanica cercando di ah devi andare per forza al non so al locale di ibriatore perché lì ci sono i ricchi così poi lì conoscevi fai networking quello è quello il networking all'ottava più bassa che c'è quello becero ma il tuo è automatico non è un caso che quando c'è una puntata con te anch'io cioè il mio livello di stress prima della puntata è infinitamente più basso rispetto a un altro ospite perché so che sei una persona con la quale si può instaurare un rapporto e questa cosa però passa subito io ti conosco un po' di più però magari qualcuno che magari incontri professionalmente arriva subito e quella roba lì è la fortuna che ti permette poi di essere chiamato così tanto o dappertutto perché ho visto che adesso vai anche a un festival a Ravenna forse eh sì sì domani in bicicletta cioè dove ci sono un sacco di persone vai a raccontare il tuo libro che forse non l'abbiamo detto neanche il titolo noi siamo in tecnologia si lo citavo all'inizio ormai è vecchio perché è un anno però è l'ultimo mio libro se non scriverò per un po' credo e cioè questa ecletticità è interessante perché andare dal festival sulla spiaggia a quello della cucina alla Toyota è qualcosa di interessante cioè lo dico perché mi sento molto vicino anch'io posso parlare di monaci che di indici di borsa e a volte c'ho quasi la sindrome di impostore che secondo me tu non hai se mi stai dicendo non lo so se ce l'ho in un tanto me lo dico no l'altra volta mi avevi detto che ce l'avevi mi ricordo la puntata quando tu hai detto mi chiacchiamano me per parlare di innovazione ma io c'ho 50 anni ah no 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 sì sì me l'avevi detto l'altra volta no no che un po' ce l'hai no ma poi ma perché non è che c'è il modo in cui tu lo dici è la no io scusco sempre quando vengo qua dico cazzo sono una bella persona no non è vero ma c'è un sacco poi ci sono dei miei amici quelli più stretti forse questo io dedico che ho tanto tempo e un po' questo ve li vedo mio padre per certe cose nel senso che poi in famiglia io amo stare in famiglia mi piace stare con le mie figlie però mi rendo conto che molto spesso sono più attratto dall'altro non ho relazioni estracognugali e se l'avessi naturalmente non lo direi qua ma in un luogo pubblico però mi rendo conto che dedico poco tempo alla mia famiglia a volte quando mi devono dire qualcosa invece con te che magari ci vediamo meno vorrei capire questa roba il tatuaggio le cose tu andare con tuo figlio là sopra adesso mi interessava la russa c'è sono tante cose che mi interessano sono tante cose che mi interessano dell'altro perché è un mondo inesplorato mentre la mia famiglia con tutto che continua a cambiare quindi per fortuna sono interessato curiosità quindi la voglia di capire la vita degli altri che cazzo fa mi hai rimandato quello che ti ho detto ma questa curiosità quindi è innata o la senti o la tieni allenata tipo con questi studi che fai non so non lo so è innata non lo sai non lo so perché è un po' cioè veramente una qualità che può sbloccare la vita a un sacco di persone cioè lo vedo tante persone sono bloccate perché non sono abbastanza curiose del prossimo perché sono concentrate troppo su se stesse piuttosto che sull'ascolto dell'altro o della voglia di approfondire qualcosa dell'altro chiunque esso sia l'altro punto cioè secondo me io non ho avuto mai l'occasione di conoscerti all'infuori di qua tranne quell'evento a venezia due volte sono venuti a venezia una volta due volte secondo me tu sei uno di quelli che comunque magari tipo tu origli i discorsi degli altri quando sei sul treno così io sento tutto al ristorante ascolto più gli altri tavoli che il mio commensale no però sì diciamo che ascoltare gli altri e relazionarsi cioè cerco sempre di capire le invarianze delle vite cioè se io faccio un fisico tu sei l'economista però o quell'altro però poi alla fine cerco di no cioè a volte appunto un espostore ma come faccio a parlare a delle persone che lavorano in banca di di finanza no eppure mi capita di essere con grandi gruppi di film ma proprio grandi cioè ci minchia adesso non posso fare dei nomi però immaginate i più grandi gruppi quelli che vengono visti come e sei lì che cerchi di capire con loro qual è il futuro della finanza ma a me me lo chiede ma che cazzo ci penso ma minchia oppure non so però alla fine secondo me funziono se mai funzioni non lo so ma è il fatto di cercare l'invarianza e non la specificità no cioè il lubrificante l'abbiamo detto che non è bello no è che alla fine cioè prima di tutto siamo homo sapiens prima di tutto e se tu capisci come sei homo sapiens puoi dialogare con gli altri sull'essere homo sapiens specifico di quel campo ma sei un homo sapiens e se invece tu parti subito con il dettaglio cioè alla fine una stanza è una stanza poi c'è una stanza seminterrata con le scale senza scale però io ho cercato di capire in questi anni soprattutto negli ultimi dieci chi è homo sapiens poi fai finanza fai fisica fai scienze fai comunicazione sei spirituale fai però sei homo sapiens e sei appartenente alla mia specie e se tu basi su questo su questa piattaforma il tuo ragionamento con gli altri il tuo discorso con gli altri poi qualcosa in comune lo trovi invece ci sono tante persone che ti portano subito al dettaglio della loro professione alla fazione vaffanculo chi cazzo me ne frega a destra a sinistra sei un medico un chirurgo cioè di cosa stiamo parlando qual è il senso del tuo lavoro e quando porti la discussione di sopra poi sei pari non so se l'abbiamo citato forse anche la prima volta che ci sei venuto qua mi ricorda tantissimo questo libro che si chiama Give and Take a revolutionary approach forse l'ho fatto anche in italiano di Adam Grant che racconta cioè come sei tu cioè tu sei un givernato cioè sei quelle persone che vengono chiamate e che fanno proprio da cardine tra mondi diversi ne è un esempio quella maschera che hai portato qua che tra l'altro l'ospite che è venuto qua prima di te il professor Paolo Colombo ha citato lui è un professore della cattolica di Milano in storia che fa anche l'attore qua a Porta Romana a Filodrammatici ma quanti anni ha? boh 60 anni ah sì sì ho letto un suo libro ho letto un suo libro no un grande perché è capitato nel mio master che sto facendo adesso al Politecnico ho detto lo invito al bazar perché è proprio un bazar umano lui perché ti parla di tutto e mette insieme tutto e a un certo punto nella lezione che ha fatto a Milano quando ha fatto il bazar scusa quando ha fatto il master ha raccontato anche lui è esperto lui è un professore di storia sì sì ma gli interessa anche raccontare storie e la maniera in cui le storie vengono raccontate tant'è che puoi fare dei monologhi a teatro no? e uno dei suoi obiettivi è cercare di trovare un modo per raccontare l'Italia in maniera diversa che sia cioè che sia efficace quindi motivante per gli italiani ma senza essere retorica ok? quindi lui dice ad esempio uno dei modi che si può fare è raccontare la nostra flessibilità la nostra umanità no? e lui cita l'esempio della donna che se fa un occhiolino a un vigile magari leva la multa oppure no anzi no questo è un po' meno nobile cioè lui praticamente racconta la storia di questo di quest'uomo che per portare il figlio all'asilo mette la macchina in doppia fila il vigile gli dà la multa e il papà gli dice guarda che ho portato il mio figlio a scuola allora il vigile si ricorda che anche lui quando suo figlio era piccolo metteva la macchina in seconda fila e gliela toglie uno svizzero non te la toglierebbe mai te lo dice uno che va in Svizzera tutti i giorni l'italiano sì quindi questa è da un alato forse causa della rovina nel nostro paese perché non essendoci delle regole ben definite che vengono osservate va un po' tutto a ramengo interpretiamo però dall'altro c'è la parte umana di empatia quindi che va e per raccontare anche la nostra genialità raccontato di quella cosa lì della pandemia perché adesso sta scrivendo uno spettacolo sulla pandemia e se vuoi vi metterò in contatto perché lui cita sempre ma lo sapete che c'è qualcuno che ha stampato con una stampante in 3D una valvola e ha detto guarda lo conosco sì io ho avuto un ruolo spieghiamolo perché sì spieghiamolo bene perché ho avuto un ruolo importantissimo e non voglio usare parole diverse non voglio fare il finto umile che non sono perché ho creato quell'umus culturale di connettore che credo uno che fa il lavoro che faccio io debba a cui si debba nelare cioè io sono felice di essere stato parte di questo progetto con quel ruolo perché io ho creato le condizioni affinché questa cosa partisse no perché io era da tre anni che andavo a Brescia a raccontare che le stampanti 3D non servono più solo al fast prototyping si chiama secondo capitolo anzi l'editore mi ha chiesto di metterlo per prima parte l'inizio che è un po' il manifesto di questo libro che noi siamo tecnologia poi c'è una parte la stampa 3D che è una tecnologia che la racconto magari non tutti sanno che tu hai sei imprenditore cofondato fablab fablab che è un'azienda che si occupa proprio di questo adesso l'umarel che è ancora lì è uno dei prodotti noi abbiamo prodotti credo adesso saremo 120.000 credo che nel mondo non in Italia sia l'oggetto più volte ripetuto in stampa 3D in tutto in guinness no? cioè probabilmente ci sono dei componenti interni automobili aerei però un prodotto fatto finito un prodotto che va sul mercato composto e completamente stampato con la stampa 3D in 120.000 pezzi credo smentitemi se ne conoscete altri go to market non si è mai esistito quindi sì faccio quello e no dicevo appunto dal 2017 lo facciamo questo e andiamo vado a Brescia nelle scuole tecniche a raccontare che queste tecnologie sono arrivate sono mature si possono utilizzare la robotica l'intelligenza artificiale per il business per le aziende del Bresciano pagato dal giornale di Brescia da Confindustria vado nelle scuole e continuavo a dire ragazzi professori la stampa 3D non è più uno strumento per il fast prototyping cioè che faccio il prototipo e poi vado in fabbrica in Cina o nel Bresciano a farne 10.000 copie è per la fast production cioè si mette in fabbrica per produrre oggetti ad esempio è l'Umarel e con me in queste classi c'è sempre la direttrice del giornale di Brescia che fa il preambulo raccontando che Confindustria li ha nominati come ambasciatori ha nominato me ed altri per portare questo messaggio importantissimo per lo sviluppo di questo paese quando il 20 marzo il 13 marzo venerdì 13 marzo del 2020 mi chiama Nunzia Vallini la direttrice mi dice Massimo adesso devi dimostrare che quello che dicevi è vero a Chiari stanno finendo non è di questo colore se vi guardate trovate un sacco immaginatevi questa valvola stampata di questo colore perché è giallo e blu mi manda la foto e dice adesso mi devi dimostrare che quello che dicevi in classe con i ragazzini che stai dicendo da tre anni questa parte è vero abbiamo bisogno perché domani mattina finiscono io l'ho descritto recentemente su un palcoscenico io mi immagino l'infermiere se non ci vedete sentiteci che va nel magazzino dell'ospedale va per cercare mette la mano nello scatolone dove il giorno prima aveva trovato questa valvola e non trova niente cazzo la valvola per i respiratori per i primi malati di covid che stavano morendo come mosche nel Bresciano a Chiari di qua entra l'ossigeno e di qua entra l'aria viene miscelato si chiama valvola Venturi è stato inventato da un italiano nel settecento miscela l'aria e di qua esce il flusso arricchito di ossigeno che ti permette per quanto tu respiri con più fatica però di avere un apporto di ossigeno che è quello che ti fa vivere più elevato e quindi ricordiamo che l'ossigeno è una percentuale piccolissima rispetto all'azoto ad esempio o nell'aria e quindi questo serviva a quello mi chiama mi manda la foto io sono sono in lockdown in Piemonte nella casa dei miei suoceri e naturalmente non mi posso muovere lì mobilitiamo una community no di persone che hanno lavorato in questi anni alla diffusione della cultura della digital fabrication troviamo questo Christian Fracassi che senza è lì sta l'umanità non è la genialità perché ripeto fare questa roba qua non me ne vorrà Christian non ci vuole un genio ci vuole un audace è diverso ci vuole qualcuno che abbia il coraggio di andare in ospedale il 20 di marzo del 2020 quando io avevo paura a vedere il fattorino di Amazon al cancello della casa dei miei ce lo siamo dimenticati io avevo paura a vedere ma non non a toccarlo quando lo vedevo a 20 metri a 50 metri il cancello io dicevo lasci pure lì lasci pure lì sul marciapiede non ci si non ci si incrociava ragazzi mi spiace ma è così allargavi mi ricordo è questo Christian Fracassi che ha vinto ieri il compasso d'oro per questo progetto è andato in ospedale ha preso la valvola di cui avevo la fotografia sull'iPhone nel frattempo ci iscriviamo mi manda cioè va a prendere fa il reverse engineering dice digitalizza il progetto di questa valvola bypassando bypassiamo perché poi anche io mi butto in mezzo questa roba qua nel senso che poi dopo le stampiamo anche noi a Milano queste valvole questa è stata stampata a Milano bypassiamo i brevetti e i certificati posso vederla i certificati di CE di Europa i materiali medicali possono essere utilizzati perché sono certificati scopriamo solo dopo aver fatto questa azione arrembante che c'è un dispositivo legislativo che si chiama uso compassionevole quindi eravamo protetti noi potevamo farlo perché non ce n'erano più l'unico modo per salvare queste persone era stampata ma le minore cazzo morivano le persone come mosche già morivano a prescindere senza respirazione morivano tutti quindi in 24 ore a me sono esploso il mio profilo facebook all'epoca usavo soprattutto facebook adesso soprattutto instagram esplodo il mio profilo facebook cioè ha avuto tipo 20.000 condivisioni quel post non 20.000 like 20.000 condivisioni una roba dicendo abbiamo fatto questa roba metto la foto della valvola la foto del prototipo perché alla sera alle 18 christian era già tornato in ospedale col prototipo di questa valvola non stampata così con un fdm che è questa roba qua un po' più grezza e lo prova e lo prova sul sul paziente funziona ragazzi scrivo veramente prima di andare a cena con i miei suoi cerchiamo tutti in lockdown in questa casa scrivo questa roba metto le due foto lo trovi incredibile indiciatore christian riuscito a prendere questa roba sotto non vi dico cosa è successo sotto i commenti siete dei pirati siete matti che cazzo state facendo eh sì pure su questo c'era un hater era madonna eh sì perché non sapete che cosa può succedere che cazzo fai li lasci morire è come quando uno pianta una bic nella trachea per far respirare uno a cui gli si è otturato si chiama uso compassione lo scoperto tu puoi fare il cazzo che vuoi se sei in una situazione di difficoltà se tenti di salvare la vita qualcuno con i mezzi che hai quindi vabbè attaccati questa roba qua poi invece si dimostra funzionare gli ospedali ci chiamano a me hanno chiamato dal politico clinico di Milano attiviamo dei collegamenti interni nostri questa volta a Brescia vanno avanti a stampare questa a Brescia io vado avanti a stampare per Milano e Savona e cominciamo con la protezione civile a dare queste valvole a chi ne aveva bisogno disegnate da fracassi rilasciate non in open source perché questo era un progetto proprietario cioè voi avete copiato una roba che non potevi rilasciare a parte che c'è il segreto di Pulcinella cioè rifare questa come Cristian l'ha fatto in un giorno però non puoi vendere non puoi distribuirle quindi le stampavamo noi a Milano e Cristian a Brescia e noi le distribuavamo attraverso la protezione civile agli ospedali che ce le richiedevano vi assicuro che passavo le giornate a Torino a coordinare questa roba però questa roba qua a un certo punto ci ha fatto i complimenti la Pisano che era ministro dell'innovazione ci hanno scritto un po' di tutti grandissimi a parte quelli che rompevano i coglioni anche tanti complimenti per questa azione incredibilmente utile e si stava tutto smorzando mi chiama Cristian e mi ricordo ancora la chiamata senti hai contatti in Decathlon mi dice ho detto che cazzo vuole andare in vacanza con la tenda adesso è diventato famoso mi chiama Cristian e dice ho contatti in Decathlon e nel libro scrivo che agli ingegneri non si fanno domande cioè mentre ai filosofi ai fisici le domande piacciono agli ingegneri tu devi dargli le risposte non li ho ma te li trovo non direte ma te li trovo va bene io vado avanti ma veramente avevo capito come stiamo parlando cioè sono un genio però ho fatto anch'io il collegamento no? che tra l'altro non è neanche una sua idea è del dottor Favero che ha avuto l'idea di hackerare questa roba qua Cristian però viene stiamo mostrando la maschera famosa di Decathlon quella che copre tutta la faccia che io non ho mai amato io non ho mai neanche avuto il coraggio di provarla non l'ho mai provata stranamente non l'ho mai amata ma perché mi piace il senso di libertà che è a nuotare sentire l'acqua però ripeto viene un sacco di gente che la usa e non siamo qua a discutere la qualità del prodotto mi chiama Cristian dice guarda abbiamo avuto abbiamo un'idea non ti dico niente mi ha detto a me frega un cazzo non dirmi niente ti serve un contatto di Decathlon mi sono messo a disposizione ho ascoltato bravo hai ragione non ho chiesto ma perché ma no potremmo un cazzo mi vuoi incontrare di Decathlon mi metto a tua disposizione io ho 50 anni lui ne ha 27 ne aveva 27 per dirti siamo una rete quindi non ci sono barriere di baronaggio ma chi se ne frega chiamo il mio socio sapevo come arrivare velocemente a Decathlon mio socio aveva fatto un MBA in Bocconi vuoi che un cazzo di suo collega compagno non abbia fatto carriera alla fine mi passa il contatto di questo give and take qualcuno che qualcuno che aveva fatto il master e lavorava in Decathlon non era un livello apicale però comincio a discuterne dico guarda ho bisogno di un livello alto perché voglio metterti in contatto con una persona alla fine ci mettiamo in contatto io apro un gruppo Whatsapp spero di avercelo perché ho cambiato lo smartphone nel frattempo e di non averlo perso avrei dovuto fare di screenshot lo dico adesso perché lì si anima una discussione su come facciamo a trasformare questa maschera in questa roba qua in un respiratore in un respiratore si chiama maschera Cpap si chiama maschera Cpap si chiama maschera Cpap tecnicamente è uguale a questa crea un ambiente in cui l'aria è ossigenata quindi tu respiri e l'idea è stata di questo dottor Favero che contatta Christian Fracassi che contatta me io ho messo insieme il gruppo di lavoro tra Christian e Decathlon che all'inizio dice raga ma che state dicendo io ho fatto una maschera per andare sott'acqua non per far respirare i malati giustamente dei manager italiani di un'azienda multinazionale francese non si prendono la responsabilità di dire ma scusa noi però te la compriamo la maschera così tu non hai nessuna responsabilità ma io ho detto quante ne compriamo dove le compriamo tutto chiuso ragazzi vi ricordate il 20 di marzo i primi alla fine ci permettono all'inizio è stata così mi ricordo ancora perché io poi nel frattempo chiamo il giornale di Brescia attiviamo una campagna di donazione si chiamava all'epoca Brescia amo qualcosa amo Brescia qualcosa del genere raccolgono tot mila euro compriamo le maschere loro ci permettono di aprirci anche quello è un post che ho fatto con il pallet con sopra tutte le maschere con tutti gli scatoloni che vengono spediti al giornale di Brescia che aveva pagato 8.000 9.000 euro 300-400 maschere e loro cominciano a stampare questa valvola da applicare però lì era Brescia e lì in teoria ci sarebbe il boccaglio qui c'è il boccaglio il boccaglio allora c'è il boccaglio oltre a aprirci e questa è stata l'azione più grossa che hanno fatto sui locali di Decathlon oltre a aprirci il magazzino ci hanno dato il file di questa parte qua chapeau in modo che chapeau sui francesi che Christian potesse studiarsi l'aggancio giusto poi a un certo punto mi chiamano mi dice abbiamo deciso di donarle 10.000 e non di vendervele e quindi sono state donate alla protezione civile 10.000 di queste sono state distribuite in tutta Italia nel frattempo il file è stato rilasciato open source da Christian quindi chiunque avesse avuto una stampante in Italia poteva stamparla unendo le maschere che c'erano in giro per l'Italia normalmente più quelle che sono state donate dalla protezione civile alle varie regioni la Decathlon alla protezione civile alle varie regioni questa cosa per fortuna non è servita nel senso che la crisi come vi ricorderete nella prima ondata si è fermata a Brescia Bergamo e un po' a Milano dove comunque noi abbiamo fatto delle azioni importanti con il Policlinico qualcosa a Savona però il sistema non è andato in difficoltà altrove però questa roba è stata ripresa in tutto il mondo New York Times perché è un'azione per tornare all'italianità di cui Colombo parlava che non è tanto Cristian non è il più grande ingegnere che la storia abbia creato o un genio il gruppo che ha lavorato il dottor Favero io i professori i manager di Decathlon non è che siamo dei geni però ci siamo messi a disposizione di una situazione complicatissima un tedesco o uno svizzo probabilmente avrebbe creato tutta una procedura noi è saltato tutto lavoravamo su Whatsapp non è che abbiamo messo in piedi una mail io ho continuato a lavorare con questi su Whatsapp aggiungevo persone al gruppo di Whatsapp di cui ero amministratore per gestire questa complessità è un esempio è una storia che ci racconta di cosa siamo capaci noi italiani in situazione di crisi che anche lì vinciamo gli europei quando siamo messi male quelle cose e poi ci insegna secondo me due cose la prima è la l'azione non come dire motivata da un ritorno personale diretto che ha anche un nome nel buddismo zen si chiama Mushotoku l'ho imparato sempre in sto monastero Mushotoku scritto Mash vabbè poi in giapponese c'è il suo ideogramma che appunto è quello che devi avere anche quando mediti quando fai meditazione non è che dici dai più medito più sono illuminato no se fai così diventi agonismo diventa competizione no però posso dire ti deve piacere mentre lo fai devo dirti perché così chiudiamo mentre vivi quella roba lì è chiaro che non pensi è vero ma poi a un certo punto ti rendi conto di essere io l'ho vissuta male perché mi rendevo cioè quando vedi che fai un post e hai 40.000 condivisioni e ti chiama la 7 per andare in prima serata su propaganda cosa che ho fatto o ti chiama New York Times per nel caso di di Christian che è stato molto più in mezzo al casino no io ero periferico nel senso che facevo parte del gruppo mi è stato Christian mi ha ringraziato ufficialmente quando è stato insignito del Cavalierato non so se l'ha fatto per il compasso d'oro sa che io se non fossi stato io a fare il divulgatore di queste robe a Brescia non sarebbe successo così come anche la giornalista è stata sveglissima a collegare i miei discorsi alla valvola mancante è un insieme di incastri magici di persone che hanno contribuito a far succedere questa roba però quando ti trovi e per quello quando vedo le persone che adesso sto incontrando per il progetto di Toyota che giovanissimi diventano campioni del mondo gestire quella roba lì che è un'ondata di attenzione del pubblico di complimenti siete degli eroi siete dei grandi non è banale cioè lì si mischiano i livelli per cui dico adesso lo sto facendo perché voglio sembrare un eroe o perché sono un cazzo di operaio di questa roba qua quindi si mischiano no? e non è non è banale gestire io non so come l'abbia fatto Cristian e se l'ha gestito ma quando diventi il volto ufficiale della creatività italiana e fino a ieri eri uno sconosciuto un ingegnere bresciano cazzo quando il New York Times ti chiama per fare un'intervista o quando a me nel mio piccolo di questa storia mi chiama propaganda e devi rappresentare la genialità di un'idea non è non è mi metto a disposizione gli altri e si mischiano i livelli i fisici quantistici direbbero che le cose non sono mai pure no? quando sono osservate cambiano stato io mi sentivo osservato cioè dalla mia famiglia dagli infermieri dalla televisione dai giornali dai miei colleghi e no? ho cominciato a dire Massimo Temporelli il ministro scrive un post Massimo Temporelli Christian Fracassi e il team di Z9 di The Fab Lab complimenti per l'azione di innovazione che avete fatto io e tu dici cazzo ma sono io adesso domani mattina cosa faccio? secondo me poi dipende anche con la depressione che ti viene secondo me e anche se ti abitui che è quello il tuo mondo no? pensa a Marco Pantani no? per pensare cioè arrivi a poi a dei livelli dici cazzo ma sono Marco Pantani che arrampica sulla montagna quello è Marco Pantani o Marco Pantani è una persona che si è allenata cioè è un casino gestire sta roba cioè non sei più tu non sei più tu sei tu più quell'evento che ti ha cambiato no perché poi se raggiungi un momento apicale come quello poi tutto il resto ti sembrava bello non mi caga più nessuno immagino infatti io scrivo un libro ma perché non mi chiamerai uno perché non mi chiama più almeno io ragionerei così l'altro giorno vedevo sempre un'intervista di David Letterman a Billy Eilish che gli raccontava proprio diceva io ho fatto 40 anni di televisione David Letterman se un anno non vincevo un premio cazzo andavo in paranoia diciamo ma che cosa ho sbagliato quest'anno cos'è che posso fare di meglio che è bello perché è un atto per il miglioramento personale però dall'altro rischia di diventare una paranoia ed effettivamente andare a beh io credo che solo tu puoi dire se Christian è una persona che lo ha fatto per propria ambizione personale l'ha fatto in te non credo io ti dico io ti dico che ho dovuto gestire questa roba ma poi è sano a me piace avere tanti followers è che se penso solo a quello sei una vita di merda è il concetto di fine o mezzo sempre se il tuo fine è raggiungere i follower sei fottuto se il tuo fine è fare delle cose bene e farle per il valore degli altri e poi questa cosa ti porta dei follower bene se fai a ritroso questa roba quindi se faccio delle cose bene così io tanti di follower di nuovo commetto un errore in teoria tu dovresti essere nel flusso della tua vita fare delle cose che ti devono venire a prescindere e poi è inutile dire che è importante avere dei follower purtroppo primo perché il tuo messaggio arriva il messaggio che tu credi sia positivo perché se no non ti sbatteresti per farlo arriva delle persone secondis e non meno importante perché poi arrivano anche i soldi per fare delle cose più fighe ma se quei soldi sono il fine e non il mezzo per fare cose più fighe è un casino io adesso lavoro per Toyota o per Siemens è una soddisfazione enorme ma io non mi inter... cioè con tutto il rispetto il fine non è arrivare a Toyota è raccontare delle robe che Toyota crede siano importanti e lo sono anche per me è avere un megafono con Toyota ma non è che per me il fine era arrivare a Toyota è per dire la macchina elettrica è una cosa fighissima che dobbiamo andare a prenderci noi umani per essere più sostenibili è una tecnologia incredibile che recupera l'energia cinetica che fa delle robe bellissime e questo lo dicevo a prescindere da Toyota e prescindere dal pubblico lo dicevo 20 anni fa il tema è chi parte dal contrario ci voglio arrivare che la gente mi dice ma come si va a diventare famosi o come si va a diventare al massimo temporale le parti che non sono diventato nessuno e non diventerò nessuno ma il tema è cazzo hai delle robe che vuoi comunicare e trova dei partner con cui farlo e non ti devi fermare lì no? cioè poi devo diventare quel podio cioè non è che prima trovi il partner e poi decidi cosa dire perché la gente fa è un tranello che ripeto ci sono cascato anche io in quei giorni a un certo punto cazzo diciamo minchia sono nel centro dell'opinione pubblica a un certo punto ripeto non mi sono mai defilato se mi chiamano ancora adesso raccontare questa storia la racconto e sono felice di avermi fatto parte ma non è che divento vi ricordate Black Mirror quello dei like l'episodio dove no quello che si incazza quello di colore che poi diventa diventa un servo di quella roba lì io col cazzo che divento il servo di Massimo Temporale di due anni fa perché Massimo Temporale di oggi è diverso da quello di due anni fa ho altre ambizioni adesso voglio suonare la chitarra non vado oggi l'ho portata non vado ma ci racconti ancora la storia della maschera dopo un po' mi romperò i coglioni ma perché cioè no perché abbiamo fatto altro nella vita nel frattempo non mi piace agganciarmi per forza alla stretta attualità però mi dà da riflettere quando l'altro giorno tipo Fedez ha postato una registrazione che lui si è fatto mentre è andato dallo psicologo il giorno che ha saputo che aveva un cancro e l'ha pubblicata su internet ho avuto un momento di disorientamento dice io non lo farei mai però io non giudico quasi mai però in questo caso mi sembra di poter dire che quando raggiungi certi livelli di notorietà vuoi mantenere sempre più alta la barra e ti riduci a condividere dei momenti così perché poi magari non è così lui mi dirà no ma io sono nato così condivido tutto però secondo me è sacra quel momento cioè tu parli che hai paura che i tuoi fini non ti vedano più e lo metti su internet così cioè non so è uno svilimento voi cosa ne pensate allora Fedes poi effettivamente lavora molto con la propria immagine cioè quindi lì è un po' ma cosa vuol dire lavora con la propria immagine cioè che lavoro è lavorare con la propria immagine ma lui fa quello soprattutto forse più che il musicista lui in teoria fa il cantante eh vabbè però se uno guarda il bilancio forse fa più quello ma non è per giustificare o per giudicare diciamo che lì c'è una componente aggiuntiva però di base secondo me in tutti i casi è proprio il rapporto che uno ha con il proprio ego con il proprio ego che comunque sia fondamentale è uno strumento e lì è utile e sano quando diventa un fine cioè quando uno alla fine lavora per la propria immagine quindi per il proprio rapporto con un pubblico con una conferma allora lì è detrimento tu devi avere una ricerca tua e poi a volte se trovi il favore del pubblico però e se no ecco immaginiamoci no il senso del di nuovo le invarianze dell'umanità nel settecento quando non esistevano i giornali la televisione la gente sarà stata piena di sé cioè avrà avuto comunque un momento non pieno di sé nel senso che senti che scorre la vita dentro di te o solo nel momento in cui hai il pubblico diventi no cazzo stiamo di nuovo parlando di duecentomila anni senza media e duecento anni trecento anni con i media cazzo ma prima la gente sarà stata piena di qualcosa di soddisfacente no solo adesso solo se abbiamo un pubblico che ci guarda quindi secondo me ci deve essere una ricerca a prescindere che poi incontra il favore se quella ricerca viene sostituita dal faccio la marchetta per racconto per diventare ricco secondo me a un certo punto la tua vita smette di essere io ho lavorato con Bebebevio due settimane fa io non vorrei mai essere Bebevio ma non perché è lei ma perché tu non puoi metterti le dita nel naso come sto facendo io voi da casa senza perché c'è qualcuno che ti guarda sempre cioè incredibile cioè eravamo in auto con Toyota a settanta all'ora seguendo la gente per strada lei metteva fuori la testa Bebe a settanta all'ora sulle strade del giro d'Italia cioè cazzo è diventata un'icona e quindi non è più lei è lei che deve essere lei ma se lei nel frattempo cambia non può cambiare cioè lei domani voglia farsi mora e diventare che cazzo ne so qualunque cosa voglia diventare un essere umano nella sua vita non può più perché è Bebevio sì penso che la carica energetica che porti addosso un essere umano in una situazione del genere sia gestibile credo da 5-10 persone in tutto il mondo è che è difficilissimo tipicamente si isolano se sei nel mezzo alla gente penso a Mina io non so dove abbia fatto Mina però a un certo punto ha detto ciao belli nel senso tipo Vasco che quando lui può va in America che almeno lì non lo conosce nessuno perché se no non può vivere e quella roba lì è incredibile cioè quella cosa che ti fa partire l'ambizione di diventare famoso io non l'auguro a nessuno te lo giuro cioè io nel mio piccolo che ripeto per fortuna non mi riconosce non sono per strada ma quando mi capita di essere in mezzo alla gente che è venuta per ascoltarmi quindi sa chi sono e che tu devi essere all'altezza dell'immagine che queste cose ma vaffanculo non so manco l'altezza di mestere senti questa Max l'ho mandato lo screenshot a loro due su Whatsapp ieri allora se questa persona mi sta ascoltando non lo sto giudicando però fa un po' impressione come atteggiamento e assolutamente non ho niente contro di te anche perché magari mi ha coltella come John Lennon mi dice Davide la prossima volta tipo era le 6 di sera io ero appena tornato dalle Sedunga alle 4 con mio figlio a fare la spesa che chissà le madonne che ho tirato magari ho pure ruttato non so che cazzo ho fatto con mio figlio le facciamo di tutte mi fa Davide la prossima volta che ti vedo alle Sedunga posso chiederti l'autografo direct message su Instagram due ore dopo aiuto ma certo che puoi a parte l'autografo che non sono nessuno però un po' fa paura a me fa paura che non sono meno che nessuno figuriamoci è una vita allucinante secondo me appunto a meno che non mi smentiate abbiamo una vita sola e non essere ma che me stesso non vuol dire un cazzo sembra una banalità non essere quello che divento se sono puro già non siamo puri perché comunque abbiamo un sacco di dispositivi che ci ho se in più ci metti che tu devi essere all'altezza dell'idea che gli altri si sono fatti già ci sono stati i genitori i nostri compagni i nostri suoceri ma tu a me lo dici che ho fatto un sacco di gente che ti deve il formatore faccio il formatore e faccio anche un po' il gurino a me mi definisco un gurino che è il gurino guru scrivo libri la felicità fai soldi eccetera poi scrivo faccio un video youtube che me l'ha girato Giovanni in cui dico ragazzi sono in esattamento nervoso perché non riesco ce la faccio più l'azienda il libro il figlio la separazione eccetera ah ma io Davide pensavo che anche tu hai queste cose anche a te capitano io sono un essere umano come gli altri cioè si crea questa mitologia della persona indistruttibile che non ha debolezze cioè non è tanto avere debolezze ma quanto osservarle analizzarle e vivere come ben detto prima nei momenti più difficili della vita a 100% cioè non c'è altro secondo me no ripeto è come il femminismo il successo chiamiamolo così o comunque avere a che fare con la vita pubblica sono discorsamente complessi che non si possono semplificare però diciamo che il fatto di fare cose deve tornare ad essere centrale nella mia vita sicuro cioè io ne sto cercando di abbandonare un po' questa roba qua per quanto sappia che qui dentro c'è la nostra relazione nasce credo da qua quindi la nostra pure quindi è potentissima ma se poi diventa il fine è un casino deve essere il mezzo per attivare altre cose e purtroppo è talmente potente questa roba qua che rischia di diventare il centro delle nostre attività e quindi l'avere successo essere collegati avere il like sto cercando di trovare un modo nuovo che è poi quello vecchio di essere fare le cose e poi ogni tanto dirle ma non guardare quanta gente mi mette like o comprare la pubblicità caro anche se è un po' che non metti sponsorizzate sponsorizza questo contenuto che vaffanculo non lo voglio più fare ma perché se no è una rincorsa infinita mi seguono 20.000 10.000 3.000 cazzo mene voglio farmi seguire da me stesso o inseguire da me stesso sì poi forse ne è l'esempio umilmente anche questo podcast che le persone più interessanti sono quelle che hanno meno like guardate scusata no a parte me no non parlavo di me parlavo degli ospiti che vengono qua che a parte te che sei forse quello o tre più seguiti beh abbiamo avuto degli youtuber della madonna stravisti il professor paolo colombo che è venuto qua l'altro giorno che fa spettacoli teatrali nei più importanti teatri di milano che da decenni insegna la cattolica di milano che fa che scrive fa podcast anche per il sole 24 non ha instagram non ha followers c'ha un progetto di teatro che c'ha 600 foros è di nuovo questa roba guarda il pendolo deve diventare la natura prendiamo spunto dalla natura che ha 4 miliardi e mezzo e noi purtroppo solo 200 mila anni ma la natura cosa fa? mette tanto colore tanto spettacolo cioè la cosa importante del frutto e della verdura è il semi il dna ed è brutto è secco tipicamente poco sexy non ho mai visto un seme sexy mentre intorno c'è l'anguria cazzo c'è intorno al seme dell'anguria c'è l'anguria che è colorata gigantesca buona e poi mangi il seme dell'anguria e fa cagare nel senso che proprio nel senso allora c'è qualcosa di potente nella spettacolarizzazione di un contenuto altrimenti la natura non l'avrà mai messo in campo il display dei pappagalli alla fine quello che interessa è il semino bianchiccio credo dei pappagalli come quello di molti animali che contiene l'informazione l'erotismo pensa cioè che attorno allo sperma c'è tutta quella carica però quindi non stiamo dicendo che dobbiamo diventare dei semi la comunicazione è fondamentale hai un contenuto importante a cui credi spettacolarizzalo ma se se non è il contenuto cazzo cioè cazzo c'è gente che non dice niente io conosco gente che fa 102.200 300.000 follower e non dice niente di nuovo tutto preso da altri e riportato lì non c'è una ricerca non c'è c'è solo spettacolarizzazione quello è un problema grosso cioè il semi ci deve essere cioè il contenuto ci deve essere ti devi essere andato a cercare qualcosa di potente da qualche parte e me lo devi riportare qua il problema è che chi c'ha i semi non ha il succo chi c'ha il succo non ha i semi e l'incontro di queste due cose che figo dovete fare corsi di money surf ecco perché noi incontriamo un botto di gente che ha dei talenti pazzeschi ed è proprio così cioè più sono bravi nei contenuti e meno sono capaci di promuoversi cioè sono ridicoli cioè vero Joe c'è gente che cazzo ne sa a pacchi poi dice vabbè facciamo un esercizio proviamo a immaginare fate un video lui poi ai corsi mi spiega come fare i video perché senza video non fai niente il giorno d'oggi no madonna non succede niente per 45 secondi no più ritmo c'è questo problema spesso ragazzi i semi sono secchi e invece poi ci sono quelli che fanno delle stories pazzesche dei video meravigliosi e non dicono niente ma perché non hanno dentro niente oppure copiano contenuti però li confezionano molto meglio cioè prendono contenuti di altri ma fanno delle confezioni fighissime e loro sono famosi e guarda che non per essere autocitazionista autoreferenziale ma veramente con questo podcast noi abbiamo dimostrato questo è figo ragazzi lo stai facendo è figo cioè dimostrando che gente che non è conosciuta che è fighissima che sui social non la conosce nessuno e la gente spesso lo nota questa cosa dici vabbè ascolto Fedez c'è Jerry Scotti Belen i calciatori della Juve va benissimo è un altro format però da noi forse anche perché siamo obbligati a farlo perché se no probabilmente se fossi famoso come Fedez pure io inviterei Jerry Scotti perché no tu conosci anche chi è Streller esatto no l'altro giorno ho fatto un pezzo che l'ho postato dove c'è Jerry Scotti che parlava di una faccenda legata alla politica milanese poi diceva alla fine l'ho chiamato Streller e c'è la Fedez scusate se oggi parliamo di Fedez mi fa ma chi cazzo è Streller cioè come per dire che nome assurdo e Jerry Scotti fa il più importante regista teatrale italiano di sempre ah scusate ma chi è questo Fedez forse Luis no no Fedez ma chi cazzo è Streller a parte che il piccolo teatro si chiama Streller dove a Milano abita anche lui poi sembra quasi vantarsi di questa cosa stai calmo e dice oh Dio ma chi è ed è impressionante questa roba qui adesso poi in realtà no no abbiamo citato lui perché tu l'hai citato no no ma è pieno di è pieno di poi sono quelli che emulano cioè alla fine Fedez ha dei talenti perché è bravissimo a comunicare cioè effettivamente quando ha un progetto ad esempio anche lui durante la pandemia è stato il primo a creare un movimento di sarà anche mosso da ego chi se ne fotte però ha funzionato di brutto hanno costruito un teatro un ospedale nuovo da zero qua e poi tant'è che mi ricordo che ho visto anche Fiorello nelle stories perché ti ricordi che sotto lockdown erano tutti in diretta e mi ricordo che c'era Fiorello che era in diretta con Giovanotti e dice ma hai visto Fedez e Laferrani che hanno fatto sta roba qua che chiedono i fondi per fare l'ospedale ma facciamo anche noi e Giovanotti fa ma che cazzo ma diamo noi i soldi alla loro perché dovevamo copiare la stessa roba che hanno fatto noi genio cioè capisci cioè in realtà poi a volte vengono fuori delle figate anche da una persona che ha un problema di ego evidente mi piacerebbe non parlare di queste persone che se ci pensi cioè ripeto sono felice che esistano perché però quando studi tutti i geni io tutti i mesi sono obbligato ed è una fatica adesso appunto questo libro spoileriamo il prossimo episodio no ma ti capisco perché io molto meno di te ma tutte le settimane devo studiarmi l'ospite è un lavoraccio bellissimo mostralo bene il prossimo il prossimo fucking genius sarà lui Feynman che è un grande fisico che veramente sei un po' in ritardo eh lo so infatti la cosa figa è che me lo sono tenuto cioè io lo conosco poco devo dire a parte i suoi diagrammi che da quando studiamo strutture della materia fisica nucleare ho dovuto imparare e mi sono già scordato e poi quando le rimparirò sarò ancora più bello quando tornano a galla sono ancora più belli però me lo sono tenuto lì cioè beh perché se te lo bruci se me lo sono già subito bruciato Einstein che è stata la prima puntata mi sono incansato perché non ero bravo non che sia bravo adesso ma all'epoca veramente la prima puntata Einstein la rifarei tutta però cancellare cioè mi ho chiesto all'editore possiamo rifare Einstein secondo me si può rifare un giorno lo rifaccio su youtube oramai la gente ogni tre anni fa lo stesso video un giorno lo rifaccio lo rifaccio lo devo rifare meglio perché merita il meglio però Einstein 2.0 cioè quando studi questa roba qua ripeto oh fede numero uno però cioè quando hai capito stai lì a guardare cosa fa la Ferragni che guardiamo tutti e poi puoi leggerti cosa pensava Feynman cioè non c'è non c'è dubbio perché qua c'è del valore qua c'è quel seme gigantesco c'è un'informazione ma Feynman non avrebbe i followers oggi perché il metro lui li avrebbe perché era un personaggio della Madonna tra l'altro tu sei a piedi nudi oggi sì ieri guardavo un video di Feynman vai fai vedere Feynman ieri era a piedi nudi dai 15 giugno in poi sono a piedi nudi non so se potete metterlo c'è un video su youtube dove lui in tuta sembrava un cazzo di attore in tuta tuta anni 70 tutona di quelle lì che andavano pieni nudi lavagna cioè sembrava un karateka dove insegnava lui lui era al calc quindi california no lui era americano californian tech institute e lui ha studiato all'amite di boston comunque per dirti che c'è un detto che credo che si possa condividere una cosa è parlare della cronaca o degli eventi una cosa è parlare delle persone una cosa è parlare delle idee io vorrei basare la mia vita e faccio fatica a farlo perché è troppo distraente sapere cosa ha fatto la Ferragni adesso che Di Maio ha fondato un partito io so tutto ti viene voglia poi io non lo faccio perché purtroppo per fortuna devo studiare queste robe qua per lavoro devo preparare conferenze però una cosa è occuparsi delle idee e non delle persone cioè con Feynman che è il driver della storia poi però capirò che cazzo era la meccanica quantistica di nuovo capirò che cos'era è occuparsi delle idee è venuto Edoardo Camurri che è un grandioso speaker io poi dopo devo consigliare un po' di amici da invitare sì assolutamente e io gli ho detto proprio questa cosa gli ho detto cazzo sai che ultimamente finisco la sera e nella peggiore dei modi bevo e sto sui social e scrivo cazzate e poi sì che poi c'è un video su questo che abbiamo messo su Instagram e lui è uno bravo io ho dei libri pazzeschi lì che magari io leggo legorantissimo però di sera no perché mi sento solo io voglio stare in mezzo alla gente vedere di cosa parla la gente pigliare sto libro da solo mi sento da solo poi adesso sono separato quindi adesso sono ancora più solo e allora lui mi fa da quanto sei separato? è da un anno vuoi sapere? in privato in privato mi raccomi no no io parlo di tutto e alla fine lui mi fa beh ma caspita no no sei da solo sei tu con quell'autore con una connessione ancora più diretta lui l'ha scritto per te ancora più diretta perché in mezzo non c'è nessuno siete solo tu e lui è una connessione veloce una fibra ottica spazio temporale che accade solo in quel momento tra te e lui ed effettivamente da quando mi hai detto quella cosa mi hai detto tu ti senti più solo quando sei in un teatro davanti a mille persone che fai pirla o quando tu sei in una stanza con una persona che stimi che parla con te mi ha svoltato di brutto Edoardo lo ringrazio ancora e leggere e leggere dei saggi cioè quando leggi delle persone che hanno capito delle cose profonde i commenti sotto i post dei non so di salvaggio ripeto di nuovo è un bilanciamento ci sta il cazzeggio why se fossi cioè ci sono gli intellettuali che leggono la sera e ti dicono che devono io ho litigato con un intellettuale un pseudo intellettuale a un festival diceva no ragazzi io dicevo dicevo ragazzi mi avevano premiato quel giorno avevo vinto il Federico Faggin Award Innovation Award a Brescia al teatro centrale e salgo sul palco e dico guardate che le tecnologie sono cose fondamentali qui dentro non c'è la tecnologia c'è la biologia guardate come camminate e gli facevo vedere che ancora adesso io cammino come se tenessi la mano a qualcuno cioè adesso non voglio alzarmi come camminiamo così no e io tengo guarda che quando andavo al campus estivo davo le mani ai miei compagni era molto simile camminiamo perché qui dentro ci sono tutte le nostre relazioni ho le foto delle mie figlie i messaggi della mia fidanzata c'è tutto qui dentro e quindi dicevo l'importanza della tecnologia e ci ho scritto un libro cioè noi siamo questa roba qua cioè questo e questo io mi immagino i ragazzi del presto cene presto cene oh no ma dai c'è un bifacciale incredibile le dinamiche sono sempre quelle è un invariante il nostro rapporto con la tecnologia siamo fighi perché usiamo la tecnologia poi si alza questa donna intellettuale del manifesto che Dio l'abbia in gloria lei è il manifesto che leggevo e dice ragazzi simpatico e temporale boom mi ha ammazzato cioè come dire è un coglione però è simpatico dai però voi dovete impossessarvi del silenzio così con questa lentezza il silenzio è importante isolatevi state ma che cazzo vuol dire cioè quando cioè ripeto è di nuovo un bilanciamento non deve essere solo la tecnologia o solo il silenzio io voglio contaminare il mio cervello di idee tue e le sue quelle di Camurri di Gianni Miraglia che dovete invitare il vostro libro quella e poi ogni tanto giustamente mi chiudo nel mio silenzio vado in bicicletta pedalo oppure sto a guardare e digerisco tutta questa roba qua cerco di mettere ordine ma dire ai ragazzi è retorico vaffanculo io non lo faccio mai cioè è giusto è giusto tenere il piede da una parte e dall'altra in questo nuovo equilibrio ma dire che questa è merda ma poi in generale cercare di come si dice evangelizzare ecco le persone a tutto ciò che è un atteggiamento spirituale fa l'effetto contrario infatti io a mio figlio non è che gli dico prima o poi anche tu farai meditazione sai che bello io non gli dico niente lui però quando medito noto che poi come fanno gli animali mi viene vicino e si appoggia si appoggia perché è bello vedere una persona che sta lì ferma che respira e lui si accovaccia lì perché lo sente a livello animico che c'è una situazione di quiete ma non è che io gli vado a dire eh no devi coltivare figlio mio il silenzio perché è la maniera migliore per dire no no dammi più cellulare dammi più dammi più videogio ma poi ripeto siamo 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 tante cose cioè dire che che dobbiamo impossessarci solo della tecnologia noi siamo tante cose vanno coltivate tutte e poi soprattutto a dire dei ragazzi che devono connettersi col mondo di stare isolati è un errore gigantesco perché oriocchi sai cosa vuol dire oriocchi la giusta misura i monaci zen mi hanno insegnato questo mi hanno detto noi siamo contro la scritta sui pacchetti di sigarette il fumo uccide no il fumo uccide chi fuma male anche nel fumo anche nel sesso anche nella non so dire la cosa peggiore la giusta misura è quella che conta la stessa cosa con quello ed è la cosa più difficile da ottenere cioè il Buddha la storia del Buddha è un po' quella cioè lui ha passato la gioventù l'infanzia nella ricchezza più totale suo papà non voleva fargli vedere il mondo esterno eccetera poi è uscito fuori ha visto come era la verità e si è diventato no io voglio diventare un monaco ma è il più performante dei monaci non voglio mangiare per mesi quindi faceva la sceta e tutto stava morendo e da lì ha avuto l'illuminazione ha capito no è la giusta misura è sempre è la cosa più difficile è difficile tra l'altro è la cosa meno sexy sui social media se ci pensi perché adesso chi vince sui social media chi divide chi prende parte io sono di questa parte qua e tutti gli altri sono stronzi esatto io lo vedo ogni tanto lo ammetto lo faccio anch'io perché ogni tanto mi diverte anche farlo ma non ci credo fino in fondo ma a volte mi sento un coglione e dico guarda come funziona quando dico tipo ho fatto un video anch'io con Elon Musk che ne parlavamo prima parliamo dello smart working ho fatto un video ero in Sardegna in vacanza e stavo facendo il solito video dicendo ciao ragazzi la bella di fare trading che mi posso per me mi sono sentito un coglione allora ho acceso al telefono e ho detto basta con questa retorica dell'influencer che ti fanno vedere che lavorano anche dalla spiaggia no io sono qua in vacanza e sono stanco e sono stressato e sono in vacanza quello che vi dicono gli influencer che mi fanno vedere che puoi lavorare da dove vuoi perché è un po' è quello ti fa vedere che lavorano dalla barca a vela dal deltaplano è una cosa vera io l'ho fatto funziona si può fare e sono convinto e l'abbiamo sempre messo anche nella nostra azienda nei contratti di lavoro lo smart working prima del covid perché sapevamo che si poteva fare ma adesso è nato tutto un mondo di influencer che per fare like ti vendono uno stile di vita che è fittizio se vuoi fare qualcosa di concreto ti devi immedesimare ti devi mischiare con le persone come fai tu ma fisicamente questa è un po' un po' scioccante questa cosa che puoi fare tutto da dove vuoi da solo è molto individualista mi basta un cellulare un computer io da solo da Bali posso fare la mia azienda che è quello che ti vendono certi influencer ma non è vero certi guru puoi farlo per un certo periodo della tua vita ma io sono diventato quel poco davvero non lo dico giusto poco che sono grazie alle relazioni che ho avuto punto io se non avessi fatto fisica non avessi fatto il museo della scienza non avessi lavorato a Torino per Marco Boglione se non fossi stato in tante trasmissioni come queste ad ascoltare cosa mi chiedono gli altri cosa dicono io non sarei quello che sono cazzo fai in una barcavela da solo guardi i social dove viene veicolato un mondo finto di messaggi ma io voglio cioè è giusto non voglio voglio è giusto sporcarsi le mani con il mondo vero che non è sui social lo sappiamo benissimo io stesso non metto quando sono stanco quando litigo con la mia famiglia perché cazzo gliene frega la gente e dovrebbe essere anche di che cazzo gliene frega la gente di quando sei felice però alla fine la vetrina è quel gigantesco cocomero che c'è intorno a un seme io ho un seme da comunicare che è cazzo che figata a cambiare le cose con la tecnologia e la scienza e con gli strumenti che ci inventiamo poi in mezzo c'è un po' di ego c'è un po' di rumore e di spettacolarizzazione però non sono io sui social per quanto io sono abbastanza cioè non ho un come si chiama un planner un planning editoriale ci sono quelli non so se voi ce l'avete ma il lunedì facciamo questo contenuto sì ce l'abbiamo ma non lo osserviamo no no io adesso mi viene in mente una roba la scrivo magari per tre giorni non faccio niente e quindi sono abbastanza io poi sono comunque veicolato dai social quindi scambio le parole cerco di essere più figo di quello che sono realmente metto un filtro banalmente un pari non me lo toglie nessuno ma anche Mick Jagger ho sentito un aneddoto e lui è la persona più dolce del mondo tranne per chi lo fotografa da vicino perché gli si incazza di brutto quindi ripeto cioè dai non si può stare in barcavela non si può ti perdi il bello cioè vivi una vita sola io l'ho fatto allora io lui lo sa appena io mi sono licenziato anzi mi hanno licenziato perché mi hanno beccato a fare trading in ufficio boom sono partito a gennaio in pieno gennaio sono andato a Fuerteventura da solo a fare il trader da solo nel deserto così minchia mi è piaciuto ancora adesso se mi rivedo quel Davide lì tra l'altro c'è un video che mi sono fatto di che anno era? nel 2010 no 2008 sì 2009 2010 più o meno ci siamo licenziati nel nostro periodo io ho visto quella roba e gli ho detto tu di che anno sei sei più giovane di me? 75 due anni più di me due anni meno di me mi ricordo quel giorno ero a casa di Giovanni perché lui abitava in un'altra casa ho sentito veramente siete amici da tanto? eh? siete amici da tanto? sì dal 2008 da allora sì cioè come coinquilino me l'ha trovato lui quella sera mi sono licenziato ero a casa di Giovanni io abitavo da lui e ho sentito sai non so spiegare come un formicoglio che è partito dai piedi e poi è salito dalle caviglie e poi è salito dai polpacci da che ero triste e inquieto mi è salita la fiammata della libertà ho detto ma io domani non devo più andare a fare quella roba finta che stavo facendo non so cosa farò ma sento che è un nuovo capitolo della mia vita è stato uno dei momenti più belli della mia vita quello lì è un po' come il cammino e la bicicletta no? con tutto sulle spalle è quel concetto lì cazzo ho detto no ma questa è nuova ma era fisica cioè non è una roba mentale proprio c'era non so se c'è un medico magari la poteva anche misurare sentivo proprio tipo un formicolio e ho fatto tutte quelle robe che adesso tutti fanno e fanno vedere ma l'ho fatto dieci anni fa quindi sono andato alle Canari a fare il figo con il laptop eccetera e poi poi mi sono depresso perché non vedere nessuno per anni e guardare solo un monitor del computer fare trading eccetera fino a quando la situazione era diventata talmente ingestibile che abbiamo fatto il bazar atomico e abbiamo iniziato a incontrare le persone perché mi forza a incontrare le persone perché io di indole invece al contrario tuo sono molto introverso anche se non sembrerebbe e chi mi vede sui media magari non lo pensa no io tendo no da sola ma chi c'è quella festa no dimmi tutti gli invitati perché se c'è uno che mi sta sul cazzo non vengo neanch'io amo andare per forza questa qua è la mia situazione perfetta 4-5 persone con cui puoi parlare cioè no se vai solo per farti vedere e far finta di essere in relazione con gli altri anche io soffro un po' e quindi alla fine adesso ho notato che cazzo mettendomi in gioco facendo vedere che perché comunque quando fai un format come questo alla fine viene fuori chi sei veramente perché tu puoi fottere la gente dopo due ore sempre cinque minuti dopo due ore non ce la fai più a tenere la maschera cioè tu puoi fottere la gente in un video Instagram di 59 secondi o una story di 15 secondi ma non ce la fai a fottere per tre ore cioè viene fuori tutte le mie debolezze tutte le mie idiosincrasie who cares andiamo avanti la cosa più importante è incontrare le persone come te infatti poi le cose sono successe cioè in due anni abbiamo conosciuto un sacco di persone ci hanno arricchito abbiamo avuto un sacco di complimenti ovvio non facciamo un milione di followers perché parliamo per tre ore di robe magari che sono un po' meno sexy della dei vestiti della Ferragni della Ferragni però poi sono nate delle cose cioè per esempio è venuto qua a Montemagno a fare una puntata non so si creano relazioni ho fatto un po' il temporelli mi sono temporelizzato diciamo no bene bene no ma ripeto è solo per dire che quando quando io cercavo di sbracciarmi facendo metafora con questi ragazzini delle scuole superiori dicendo ragazzi dovete contaminarvi stare in mezzo alla gente sentire le idee di tutti farvi la vostra idea e poi a sale questa giornalista a dire esattamente il contrario dice no dove dovete ascoltare il silenzio e ripeto o quando vado in bicicletta cerco il silenzio quando suono la chitarra banalmente che suona però cerco una mia però secondo me è dire una bugia l'umano è collettività l'innovazione è collettività la cultura è collettività non so quante volte vi è capitato a me è capitata spesso perché ero studente di fisica piuttosto scarso nel senso che arrivavo da una scuola scarsa sono unitis e quando andavo avevo l'occhialino in grande fisico a studiare se non capivo qualcosa perché ero lì sul libro di fisica teorica analisi 1 analisi 2 nel momento in cui mi alzavo in piedi anche solo per andare a chiedere a un mio compagno la risposta a una roba che non capivo la capivo è vero cioè capito per farti capire quanto siamo solo il fatto che siamo obbligati a chiarirci le idee anche solo fare una domanda è vero e allora nel momento in cui fai la domanda io mi alzavo proprio questo gesto mi alzavo a metà dell'occhialino mi fermavo e tornavo indietro è vero ma io lo faccio ancora adesso con Enrico tipo non capisco una cosa poi alzo lo sguardo sto per dire la cosa e gli dici ma Enri ah no niente solo che gli ho detto così ho capito perché perché sei obbligato a uscire dal tuo flusso un po' si usi un'altra strada cambia prospettiva cambia prospettiva ci metti già nel fare la domanda devi sintetizzare il problema che hai nel momento che non siete quindi noi siamo l'altro anche le nostre idee sono già anche se non sono no nell'altro sono nel momento in cui le cerchie di esprimere diventano qualcosa di pubblico e quindi è bello secondo me il problema dell'Italia è proprio questo che gli intellettuali pensano di essere dei geni isolati e non si sporcano sono su questa famosa torre di Babele e non si rendono conto che invece la cultura sta nell'andare in mezzo agli altri nel mischiarsi con gli altri nel discutere con gli altri chiunque essi siano ripeto anche che gente che la pensano pensa in modo diverso da te e difendere la propria idea è invece tu vedi questi politici che non difendono neanche cioè difendono un principio tu sei di destra tu sei distinto tu sei un coglione ma perché possiamo prendere un'idea di Berlusconi o di D'Alema anche se sono un berlusconiano un D'Alemiano adesso parlo di persone che non esistono più ma perché mi sono formato lì politicamente ovviamente mi sono formato lì cioè io ho cominciato a occuparmi di politica come tutti quando dovevo votare no il 17 e c'erano questi due qua adesso non so che cazzo ci sia però c'è Di Maio c'è Di Maio c'è La Meloni che però ripeto non voglio giudicarli non siamo qua per farlo però quando li sento parlare che mi capita di vedere la televisione o leggo qualche articolo mi sembra che ci sia sempre a prescindere il nemico da controbattere no non cazzo ma sai che hai detto una cosa io non ho mai sentito uno è vero in tv a dire merda hai detto una cosa in tv oppure viceversa ma sai magari mi sbaglio oppure mi sono sbagliato avere delle idee così chiare sulle cose ma come fare sai che avevo detto una roba tre anni ma è nessuno ma sai che epifania che sarebbe un politico in tv che fa no perché dobbiamo assolutamente aprire i porti a tutti ma io penso che sai che l'ultima gentile collega senatore l'ultima sua dichiarazione mi ha fatto parzialmente cambiare idea andrebbe su blog ma cioè farebbe un odio perché perché non è strategico cioè qualcuno lo farebbe anche o lo fa dietro le telecamere lo dicevi tu Davide che il fatto che sia un messaggio divisivo è successo quindi tu non devi mai dire una roba a metà perché di complessità ma io ho degli amici no c'è degli amici giornalisti che lavorano nelle redazioni anche televisivi che dicono guarda che appena si spengono le televisioni vanno a mangiare la pasta asciuta assieme travaglio con quello di libero è tutto è un circo è un circo che si sposta no con la carovana adesso domandiamo è come il wrestling bravo domandiamo sulla sette a fare un po' di casino infatti le interviste da un po' di anni se ci fate caso cioè sono cioè sono lette no cioè apparentemente quando intervistano Gasparri fuori dal no che proprio legge qualcosa quello al telegiornale un teleprompter quello al telegiornale però nei talk show no dai beh certo no nel talk show sai cosa ho notato che a volte tipo questa cosa viene un po' fuori tipo l'altro giorno non so io lo so una vita triste ho visto Giletti quella famosa giorno in cui l'hai svenuto sai che è svenuto Giletti era a Mosca a un certo punto come si chiama il direttore di Libero e chi è adesso non lo so non lo so no l'altro ancora Feltri no direttore di Libero ah Sallusti Sallusti allora questa scena è stata fantastica Giletti a Mosca è a Mosca proprio di fianco c'ha uno della della propaganda russa che è un giornalista famosissimo ma che cosa fa Giletti e perché se lo sono chiesto in tanti giustamente perché conduce sto programma alla Russia perché fa ovviamente fa scena cioè dice cazzo lui è là crea il pathos e infatti il pathos c'è stato però è stato punito perché praticamente lui ha fatto un'intervista a questa tipa che comunque non era lì in studio a Mosca con lui che è una la delfina di Putin che ha detto una marea di robe assurde di propaganda proprio filoputiniana estremista e Giletti ha cercato di fare un'intervista normale ma era infattibile questo non rispondeva andava avanti a macchinetta a ripetere il mantra di Putin poi ritornano in studio e comunque Giletti è collegato da Mosca con questi due russi della propaganda russa l'hanno pestato l'hanno legato in cappella no salusti fa io rinuncio al mio ingaggio che avrei dovuto percepire per questa sera per dire questo che la persona che ha appena parlato è una persona di merda e che quel palazzo che vedo dietro di te caro Giletti è un palazzo pieno di merda dove sono state fatte le peggiore merdate io me ne vado Giletti è svenuto è svenuto eh sì perché questo qua ha detto minchia qua mi ammazzano infatti a un certo punto sembrava hanno rapito Giletti infatti ci hai mandato anche i messaggi sulla chat in tempo reale volevo darti intanto che vado e questo ti fa capire il livello perché lì ormai è spettacolarizzazione è spettacolo totale e ecco questo per dire che poi alla fine tra di loro non ci credono fino in fondo nelle cose cioè è tutto uno show dicevi? io intanto mentre vado alla toilette cosa devo leggere? ti chiedo di leggere così poi ne discutiamo se ti va la parte noi appartiniamo e io e te la parola legge lo piano leggendo bene i verbi che usa questo è un grande filosofo si chiama Gilles Deleuze è un francese che io ascoltavo quando ero studente universitario alle tre di notte su Rai 3 che facevano vedere queste robe qua parlava in francese queste unghie lunghe un folle non ho mai incontrato filosofi più strani di lui almeno non è che frequenti un grande però leggi cosa dice del dispositivo perché poi parliamo di tecnologia un attimo perché in generale la cosa bella dei filosofi è che non parlano mai esattamente di qualcosa di pratico cioè riescono a tenere quel livello perché dice ma sta parlando di quello o no che cazzo sta dicendo perché io direi fai un esempio lui parla di dispositivi leggete bene i verbi perché è una roba che a me mette la pelle d'oca cioè capire che cazzo è la tecnologia e quindi cos'è anche cos'è per loro il linguaggio è pratico quindi per loro già solo dire una cosa è una cosa pratica è una roba pensa ai social network alla televisione al concetto di telecamera cosa dice dei dispositivi ditemi dov'è il dispositivo chiamato a destra a destra discutiamo tra breve Gil Deleuze noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo in essi la novità di un dispositivo rispetto a quelli precedenti la chiamiamo la sua attualità la nostra attualità il nuovo è l'attuale l'attuale non è ciò che siamo ma piuttosto ciò che diveniamo ciò che stiamo divenendo cioè l'altro il nostro divenire altro in ogni dispositivo bisogna distinguere ciò che siamo ciò che non siamo già più e ciò che stiamo divenendo ciò che appartiene alla storia è ciò che appartiene all'attuale in ogni dispositivo dobbiamo districare quindi le linee del passato recente e quelle del futuro prossimo ciò che appartiene all'archivio è ciò che appartiene all'attuale ciò che appartiene alla storia è ciò che appartiene al divenire ciò che appartiene all'analitica è ciò che appartiene alla diagnosi non predire ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta preso da Deux Régimes de Fou e sì cioè probabilmente questo sfasamento temporale cioè che dici no io non ce la faccio molto umilmente lo devo leggere altre 30 volte anche perché mi ero concentrato su vedere se Massimo trovava l'interruttore della luce per andare in bagno l'ha trovato poi che è un dispositivo è un dispositivo beh no comunque sia cioè dice quello che abbiamo detto anche oggi cioè che ogni cosa con cui ti relazioni è uno strumento trasformativo il primo verbo il primo verbo è piazzare noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo con cioè non è che perché quello su cui ho provato a riflettere qua ma che si lega benissimo a quello che stai dicendo su sulla televisione sulle telecamere i microscobili i microfoni i social network è che noi pensiamo sempre che siamo strumenti che esista uno homo sapiens libero da questi strumenti no più che altro che siamo noi e che noi li generiamo e li progettiamo li utilizziamo no no sono loro a cui noi apparteniamo noi apparteniamo a dei dispositivi cioè Massimo Temporelli senza social network nel novecento fosse nato nel 1920 sarebbe appartenuto ad altri dispositivi e avrebbe agito in un altro modo sai cosa ti dico io sai che nella mia prima vita è una roba e poi non so se siete arrivati alla fine riconoscere lo sconosciuto che bussa alla nostra porta bellissimo cioè non anticipare dire cazzo qua c'è qualcosa cioè i podcast sono una roba figa con cui posso tornare a comuni social network scusate la bicicletta la chitarra la meditazione la jeep cambia il nostro modo di essere noi stessi la parola più bella per me è attenti perché è una parola su consapevolezza che parla di consapevolezza quindi non predire ma essere attenti allo sconosciuto che bussa alla porta quindi essere presenti nell'atto in cui lo sconosciuto bussa su questa cosa mi è venuta in mente proprio a flash io nella mia prima vita ho fatto musicista cioè mi piaceva avevo una band avevo una band e come mai hai abbandonato questo progetto? perché era una cosa molto purtroppo Diego volevo diventare famoso ho scritto cioè al fine ho pubblicato anche un disco mi sa che dovrei farlo perché la sera era una cosa che mi sfogava tantissimo cantare e invece guardo il cellulare tu pensa devo tornare a suonare come fa come si chiama Woody Allen che lui ogni giovedì sera suona in un'unica bellissimo e io mi ricordo mi ha svoltato una volta un'intervista non mi ricordo più a che cantante forse PJ Harvey che è un'artista che adoro e che praticamente quando tu sei un compositore di musica qual è il tuo problema? non tanto avere l'ispirazione ma avere un botto di ingredienti possibili diversi non solo le note quando guardo in pianoforte quanti tasti ci sono un botto ma quanti tipi di pianoforte ci sono quanti tipi di strumenti adesso poi col computer hai a disposizione gratis tutti i sintetizzatori possibili ma anche su un cellulare cioè come fai a scegliere qual è il suono giusto è impossibile puoi passare tutta la vita a selezionare un singolo suono e non è composto una cazzo di canzone capito? e quindi il trucco che si danno molti artisti è quello di ridurre le possibilità e ridurre i dispositivi che verranno utilizzati per produrre quest'album e da lì crea crea la creatività anche Carver cioè la ridurre minimizzare gli strumenti perché noi apparteniamo a dei dispositivi quindi chissà non siamo noi che facciamo il disco è lui che fa il disco attraverso di noi è affascinante bellissimo e di nuovo la relazione vedi cazzo che alla fine di questo incontro la relazione quella che abbiamo detto all'inizio l'altra volta era fucking genius la relazione noi siamo gli strumenti che siamo noi siamo il contesto che viviamo noi siamo gli altri che ci passano delle idee noi siamo in relazione con le cose il nostro cervello è in relazione il cervello non è un neurone più intelligente di un altro che ha un'idea è una rete che si connette e butta fuori per emergenza per emergere del valore e a me questo pensiero ripeto io l'ho sentito questa roba qua nel 1993 e lo sono andato a recuperare perché poi ho scoperto che lui aveva scritto un libro che si chiama Dispositivi o Dispositivo che l'ho comprato e l'ho letto nel 2021 mentre scrivevo questo e ho stralciato quella cosa lì perché io me la ricordavo perché ho detto che cazzo sta dicendo ma io avevo 19 anni e l'avevi vista in tv l'avevo vista in tv in su Rai 3 tipo fuori orario sì ma no ma alle 3 di notte alle 4 di notte non dormevo perché avevo l'esame di analisi 1 perché Ricco Ghezzi che è quello che faceva fuori orario il cinema e lui è appassionato di Gilles Deleuze Derrida tutti questi filosofi nel novecento e quindi trovo questo uomo che non conoscevo perché un perito meccanico studiava fisica la filosofia non l'avevo mai incontrata però comunque c'era dentro già mi diceva alle 3 di notte non riuscivo a dormire e vedo questo qua circondato da studenti alla Sorbona con ste unghie lunghe perché lui non si tagliava le unghie e parla di dispositivo ma che cazzo vuol dire senza dire non è che diceva la chiave inglese la porta la sedia sono disposto parlavi di sta roba galleggiante però mi è rimasta lì pensa all'importanza delle parole dopo 25 anni io devo scrivere un libro sulla tecnologia che cazzo mi ricordo quella volta quello là chi cazzo era Gilles vado a cercare trovo il libro dispositivo noi agiamo agiamo e apparteniamo a dei dispositivi apparteniamo è affascinabile ma tu pensa prima del cellulare cioè adesso adesso noi diciamo è ovvio che è lui che comanda noi no 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 io adesso sono andato a cercare l'arrato l'agricoltura agisce su di noi io adesso sono andato a cercare sul mio dropbox una foto di lui che suonava che gli ho scattato 18 anni fa e per me dropbox in effetti è una di quelle cose che mi descrive senza dropbox io sarei un qualcosa di molto diverso perché ho tutti i miei ricordi su dropbox fotografici li uso costantemente ma così come come era dispositivo l'album fotografico cioè abbiamo perso quella cosa lì io non sono un nostalgico però disponeva dei comportamenti le persone intorno così come ricordate quando si tornava dalle vacanze qualcuno le diapositive poi aspetta se in casa il rumore della ventola tutto intorno a volte due coglioni con questo che era stato in Marocco e ti faceva vedere i tramonti però quello disponeva dei comportamenti delle socialità oggi siamo diversi né meglio né peggio siamo diversi e sono i dispositivi che ci hanno cambiato chi dice siamo meglio siamo peggio secondo me non ha capito un cazzo di come si evolve l'umano l'umano esplora la cosa figa è che adesso esploriamo una zona buia della nostra umanità e va bene vaffanculo è come quei giorni in cui sto male e cosa faccio faccio finta che non sia giù e esploreremo questa zona qua l'individualismo legato al digital poi usciremo vi assicuro che se non funzionerà usciremo e andremo da un'altra parte ma non c'è che non esiste ma io avevo questa illusione già quando facevo fisica mi ricordo che incontro il professore di epistemologia della scienza e dico ma cosa vi aspettate voi dall'evoluzione della scienza io ero convinto se arrivasse a un certo punto uno scienziato scoprisse Dio cioè c'era un'idea di progressivo la scienza non è progressiva la scienza esplora e tra l'altro non è definitivo ma mai il giorno dopo adesso la velocità della luce non può essere superata per adesso il paradigma dice un giorno scopriremo che sarò il centro della terra non è che chi diceva che il centro della terra che il centro dell'universo era la terra era un coglione era quello che tutti pensavano i scienziati più grandi del mondo pensavano a quello Aristotele cazzo che era un fottuto genio pensava a quello oggi pensiamo che ci sia lo spazio-tempo reticolo domani scopriamo un'altra roba e secondo me l'umanità fa la stessa cosa che fa la scienza cioè esplora robe che non sono meglio o peggio cioè fanno scoprire le cose di noi diverse quindi secondo me questa roba del dispositivo va realmente rinterpretata e secondo me la cosa bella è lasciare gli umani che facciano gli umani di quell'epoca lì cioè non puoi dire no ma tu devi tornare indietro lascia che esplori che tirino fuori abbandonare anche un po' questa ambizione dell'oggettività cioè non c'è l'oggettività c'è una serie di step di soggettività a me venivano mente le stagioni si parlava anche prima di momenti di depressione cioè in realtà è un passare di anno in anno nelle varie stagioni che tutte hanno senso per far sviluppare la vita poi l'importante è comunque sia dare una sorta di movimento a spirale cioè quindi ritornare lì ma a un ottavo superiore evoluto cioè imparare da quello che hai vissuto nelle varie onde sono dei cespugli l'immagine che mi viene spesso dell'evoluzione generale biologica ma anche culturale sono cespugli cioè non c'è mai una sequenza guarda sai che mentre venivo qua pensavo un po' a questo gente che passa un cespuglio ad un altro si ha il coraggio di saltare di là però proprio un salto che poi va a te in macchina qua fuori dice non so perché mi è arrivato un pensiero che va bene non credo di essere che sia così originale però dal 24 febbraio di quest'anno da quando è iniziata questa guerra qui qualcosa dentro di me è cambiato perché io avevo una visione se vuoi anche un po' indottrinata forse da alcuni pensieri malinterpretati secondo me del guru che fa la mia meditazione che io non seguo non faccio parte di quella community o quella cioè io faccio quella meditazione ma non ho una religione non vado neanche agli eventi loro però non so come dire cioè ti comunica un dispositivo esatto pregare in un certo modo ti dispone dei comportamenti però la comunicazione che spesso vedo anche nel mondo New Age è che stiamo andando sempre verso il meglio c'è il risveglio e in effetti io dicevo è vero ragazzi e mi ha sfottuto anche tante volte la mia ex forse anche per quello mi ha lasciato dicendo cazzo ma guarda che tu guarda non c'è una guerra in Europa da 50 anni ci sarà un motivo no? cazzo poi scopre a scuola e dico guarda che roba no ma ci sono i bambini ammazzati ma qua a 100 km allora non è vero quello che ho detto fino adesso l'umanità non procede procede a circoli in maniera diversa ne abbiamo parlato anche con lo storico Paolo Colombo l'altro giorno che ha detto una frase che io me la sono tatuata tra un po' non è lui dice quando vengono a imparare storia da me gli studenti dicono ma perché hai scelto storia perché così l'uomo può capire c'era anche una frase di non so quale filosofo antico che dice impariamo dagli errori del passato abbiamo capito che l'essere umano è il fascismo ragazzi esatto il fascismo è di 50 anni fa 70 anni fa non è che no lui dice l'umanità non è impara solo a farle meglio le cose mi sono tutti i brividi in effetti a fare meglio le cose peggiori sì a fare meglio sì a far meglio le cose o abominevoli perché in effetti è vero cioè e quella roba lì un po' mi ha depresso però adesso tu hai detto una cosa interessante il fatto che è come una crisi depressiva di gruppo cioè come quella che abbiamo vissuto che viviamo tutti noi anche il pianeta ogni tanto ha queste fasi depressive e si vede che sono funzionali è un cervello l'umanità è una cosa se uno se lo guarda a un livello superiore sono persone che si connettono come delle sinapsi superorganismo in cui nasce un pensiero dominante adesso il pensiero dominante è il femminismo oppure è stato adesso non voglio paragonare il femminismo al fascismo che non si venga mai no perché noi faremo un montaggio temporelli ha detto no però ha capito temporelli asfalta il femminismo non è che il nazismo il fascismo erano visti come qualcosa di cattivo all'epoca no e dice la gente vive a parte qualche che veniva considerato uno squilibrato e forse lo era che andava contro quel sistema le persone medie pensavano che Mussolini e Italy fossero persone all'inizio poi c'è qualcuno ha iniziato a scappare ho capito ma non è che mia nonna tutti erano partigiani che dopo si sono diventati tutti partigiani così come credere che la centralità del mondo che l'universo fosse la terra non è che c'erano dei potenti politici che dicevano no il mondo tutti credevano che la terra fosse al centro dell'universo tutti credevano quando è arrivato Darwin a dire che noi siamo figli delle scime era un eretico e al contempo nessuno pensava che finita la prima guerra mondiale ci sarebbe stata una seconda guerra mondiale perché mi fa venire i brividi quando sento Lex Friedman che è un podcaster famoso americano che dice io ho delle brutte sensazioni perché c'è una situazione bruttissima le potenze non hanno paura di minacciarsi a vicenda è una roba che non abbiamo mai visto almeno io non l'ho mai vista noi siamo andati dopo gli anni cinque quando mio papà mi diceva sai che una volta ero al militare mi hanno tirato giù alle tre di notte perché c'era la baia dei porci a Cuba stava per finire il mondo io dicevo ma me la sta romanzando invece no cioè lui ha vissuto questa roba da un momento all'altro il mondo può finire cazzo che quando hai dei bambini non è bellissimo e soprattutto si pensava fosse la storia del passato cioè diceva vabbè dai oramai c'è il WTO l'ONU la CE il G8 il G7 e quell'altro il World Economic Forum tendenzialmente le forze che lavorano a far migliorare il mondo ci sono ma non sono le uniche forze che dominano il nostro pianeta cioè altrimenti sarebbe cioè da Aristotele credo che Platone abbia detto cose bellissime sui tempi di pace però quante guerre ci sono state ci sono tante forze nel mondo credo e ripeto e vanno rispettate tutte tutti siamo d'accordo che farsi i filtri per sembrare più belli sia sbagliato però sta succedendo cioè no o che mettere la nostra vita in vetrina sta succedendo questo non vuol dire che sia male per forza vuol dire che esploriamo un nuovo campo che non è mai esistito dove ci porterà questa cosa nessuno lo sa nessuno magari ci porta la cosa più figa del mondo non predire ma essere attenti allo sconosciuto che bussa la porta e ci faccio finta di e tra l'altro ci sono più sconosciuti che bussa la nostra porta migliorando Deleuze se si può è riconoscere lo sconosciuto il miglior sconosciuto che bussa la nostra porta perché sono tanti di sconosciuti che bussa la nostra porta e chi lo conosce per primo diventerà ricchissimo così motivi anche la gente bello max allora non posso non lo facciamo mai perché c'è una regola nel bazar atomico che si va dove si va io ho qua una scaletta che mi ho preparato e come al solito non ho fatto un cazzo però c'è quella scatola lì che non possiamo questo è l'oggetto più bello che io possegga e che guardo ogni tanto e mi stupisco di questo oggetto è un oggetto che arriva dall'ottocento è magico alzalo un po' così devi alzarlo perché in quadratura arriva un po' così innanzitutto è firmato da Tiffany così lo vedete no più su esatto in che senso è firmato da Tiffany Tiffany & Co è un gioiello no questo oggetto è bello perché è l'inizio della globalizzazione è un pezzo di un cavo transatlantico calato sotto l'oceano atlantico sul fondo dell'oceano atlantico nel 1858 giusto una roba nerd ma veramente ci metto tre secondi prima di questa data esistevano le reti telegrafiche europee e americane perché Morse in realtà è nato in Inghilterra il telegrafo però diciamo che Morse come spesso capita per gli americani l'ha reso semplice raga schiacci un bottone e quegli altri con gli aghi magnetici un casino Winston & Cook nel 1838 lui nel 44 fa la prima linea Baltimore-Washington è figato schiacciare un bottone di là c'è una linea è un punto chiaro e palese quindi si sviluppa la rete americana telegrafica nel frattempo vengono sostituiti anche i telegrafi più complessi ad aghi e magnetici in Europa quindi ci sono due reti telegrafiche che mettono in comunicazione tutte le città d'Europa intorno al 1850 anche in Italia che siamo più scarsi di fare queste robe il treno e il telegrafo viaggiano contemporaneamente è sempre stata una relazione mezzi di comunicazione e mezzi di trasporto non può essere il mezzo di comunicazione più veloce il mezzo di trasporto più veloce della comunicazione quindi vanno avanti insieme c'è la carrozza e la posta c'è il telegrafo e il treno vabbè e quindi le due cose funzionano cioè tu vuoi comunicare con Napoli da Milano lo puoi fare vuoi comunicare da Baltimore a New York lo puoi fare però quando devi comunicare da Londra a New York cazzo comincia a essere un casino arriva il segnale telegrafico a Londra ma poi come fa ad andare di là devi ritradurlo in cartaceo caricarlo su una nave e portarlo in America ritradurlo e ritrasmetterlo quindi rallenti tutto quindi vuol dire che un medico che scopre qualcosa o deve chiedere un consulto a New York da Roma ci mette minimo una settimana arrivare di là allora un ingegnere canadese James Bourne va da Cyrus Westfield o Cyrus Westfield che è questo imprenditore che fa questa roba magica e dice senti ho un progetto voglio portare le reti telegrafiche in Irlanda e a Terranova dove la distanza da percorrere per una nave è il tempo minore sono sei ore sono sei giorni mentre se parti da Londra da Southampton e vai a New York c'è ogni 8-9 giorni lui diceva bene lui era molto ricco questo Cyrus Westfield era un po' un finanziatore non ha l'idea poi quando se ne va via a Gisborne il canadese ingegnere lui va al Lobo e dice ma scusa ma perché non conne mi emoziono quando tutte le volte sento parlare di questa roba mi emoziono perché è veramente questo è saltare su un altro cespuglio cioè buttarsi le scimmie volanti e dire speriamo che di là mi attacco a qualcosa questo dice ma perché cazzo non connetto la rete telegrafica europea attraverso un cavo unico che connetta e comincia a chiedere a mandare letter che non è uno sproveduto chiede a Morse chiede a un altro oceanografo chiede ad altri scienziati e tutti gli dicono guarda teoricamente un segnale elettrico può attraversare e tra l'altro sull'oceano c'è un fondale questo signore mette insieme i capitali in Inghilterra e in America prende due navi le fa incontrare al centro dell'oceano e cominciano a calare il cavo questo cavo questo cavo appoggiato quindi cioè caricano sulle navi queste due matasse le saldano all'inizio una nave la Niagara va verso l'Inghilterra e l'altra che non mi ricordo più come la Gamennonen va verso l'America e continuano a telegrafarsi intanto calano questo cavo lungo 3000 km sul fondo dell'oceano arrivano di là il segnale funziona ancora cioè riescono a comunicare le due reti quindi da quel momento da Roma a New York in tempo reale da qua nasce la globalizzazione nel momento in cui tu metti in comunicazione tutto il pianeta in tempo reale perché la velocità della luce è 300.000 km al secondo e siccome lì sono 3000 km di mare vuol dire che in un decimo di secondo tu attraversi l'oceano atlantico rispetto a sei giorni e questo signore mette insieme i capitali investendo sull'opera che io ho definito la conquista della luna dell'Ottocento cioè calare un cavo come questo tecnologicamente nell'Ottocento è paragonabile a quello che ha fatto la NASA nell'andarsi a prendere la luna e questo è un pezzo poi Tiff cosa facevano? non facevano esattamente 3000 km ne facevano 3500 km quando le due navi sono arrivate Tiffany ne ha preso la porzione avanzata sulla nave ne tagliò questi sigari che dentro avete il rame la gutta perca che era un isolante e poi il rinforzo in metallo che dava robustezza al sistema e Tiffany ne fece dei cofanetti celebrativi e questo che vi passo come se fosse una canna che potete annusare Original Transatlantic Cable 1858 guaranteed by Tiffany questo è un sigaro se lo guardi è un sigaro altro che cubano e questo è l'inizio della nostra storia dove l'hai trovato? in un mercatino di collezioni io quando lavoravo al museo avevo amici che mi guidavano ma in realtà questa roba qua è poco conosciuta cioè non è una storia io ho scritto ho fatto un podcast la seconda puntata dopo Einstein ho fatto Saru Gursfield su cui lo dico nel film nel podcast e secondo me voi siete abbastanza pazzi per seguirmi io farei un film cioè questo è il Titanic è più del Titanic cioè voi immaginatevi queste navi che partivano dal centro dell'oceano con navi a vela e a vapore all'inizio ma il rotolo quanto pesava infatti per tenere tutto quel rotolo è tonnellate tonnellate tra l'altro poi nel 58 la cosa incredibile lì senti l'odore della stiva della nave cioè tutto e tra l'altro quel cavo funziona da agosto 6 agosto del 1858 al 13 settembre poi smise di funzionare quindi questo qua una roba così ti ammazza cioè tu hai investito hanno fatto tutto ha smesso di funzionare non funziona più ci riprovano si rompe il cavo partono nel 54 in realtà nel 58 ce la fanno si rompe questo qua riraccogliere l'entusiasmo i finanziamenti per rifare un'ennesima cosa nel 65 ci riprova fallisce nel 66 riprova e ce la fa voi immaginatevi voi cosa avreste fatto cioè sei comunque un uomo ricco che ha convinto gli Stati Uniti il Presidente della Repubblica la Regina che si comunicano tra di loro il primo messaggio è tra la Regina Elisabetta se non sbaglio e il Presidente degli Stati Uniti dicendo sono felici di poter comunicare in tempo reale questo qua lì è caparbietà cioè è una visione chiara del futuro cioè quella roba lì che tu sei già saltato di là ma lo sai e c'è gli umani e non lo so è come Steve Jobs è venuto uno nostro ospite che proprio ha questa scuola di fallimento che bello dove spiega le persone non come fallire perché sembrerebbe ma come affrontare i fallimenti che sono inevitabili anzi sono la lezione da cui è come il successo non è se fallisci allora sei figo no sei figo se vai oltre se tu cerchi di fare una roba impossibile e fallisci e poi ci riprovi e ce la fai allora sei figo il fatto che tu abbia provato a fare una roba impossibile abbia fallito non ti rende un figo ripeto non sei un fallito hai fallito la tua opera ma se tu fai se vuoi fare qualcosa di grande fallisci per forza per forza cioè Elon Musk di cui abbiamo parlato prima che sta prendendo una brutta deriva quante volte ha sbagliato i lanci i primi tre lanci sono tutti falliti per anni è andato avanti se non trovava i soldi per fare il quarto lancio era finita ma anche Tesla non è che andasse bene per tanti anni non veniva venduta scusate ma il fatto che abbia venduto sta macchina anche il track che doveva uscire ma non esce mai sta cazzo di macchina come si chiama la Roadster è ancora adesso un fallito è l'uomo più ricco del mondo è uno che ha fallito ma anche Amazon per quanti anni ha perso soldi Amazon cioè quando fai un progetto così ambizioso che è quello che manca all'Italia cioè l'ambizione un certo punto anzi anche con voi mi piacerebbe dirlo e provare a farlo io vorrei fare una piattaforma di lancio di razzi ma solo la piattaforma il traliccio il cemento sotto con il simbolo come se fosse un totem da adorare se la gente passasse a vedere anche in Italia possiamo lanciare i razzi perché cosa sono più intelligenti di noi gli americani no sono solo più audaci hanno solo più coraggio sono figli di questi di questi progetti quando loro leggono la storia di Cyrus che non so perché non è così famoso anche negli Stati Uniti io farei un film su di lui chiederei a Ridley Scott o a o a qualcuno Nolan o Bicca sarebbe bellissimo il prossimo film di Nolan è su Openheimer tu immaginati questi scienziati a bordo di questa nave che insieme a Cyrus Westfield stavano su sta nave con il cavo che scendeva sull'oceano bellissimo sono dei disegni bellissimi e sono figli di questa roba qua che sono figli dei pionieri che sono andati nella East Coast americana per conquistare le prime colonie e sono figli di quelli che sono andati nel Far West noi siamo guardate i movimenti degli europei siamo fermi la prima volta che si spegne una luce che luce è che si è spenta quella lì eh no si è scaricata allora vuol dire che dobbiamo fermare esatto adesso ci fermiamo perché poi diventa tutto triste senza le luci diventa uno scantinato anzi ti metto no in particolare cosa succede che oggi mi ero tutto preparato volevo fare il figo vai attualità oggi sono andati i temi della non ho letto cosa ho scritto e uno dei temi è incentrato sul discorso di Giorgio Parisi premio Nobel italiano per la fisica sulla durante il COP26 sul clima cioè dicevano ragazzi vabbè possiamo parlare di tutto ma la cosa più importante nel momento è il clima e uno di questi temi era su questo dei temi della maturità e lui dice il discorso che fa è che il problema è quello che dici tu cioè che noi in Italia abbiamo un problema che noi investiamo nel breve termine perché la classe politica cambia il governo cambia quindi avere risultato subito ma la ricerca non funziona così la ricerca ha bisogno di fallire nel lungo termine si chiama ricerca lo dico sempre è una roba che dovrei brevettare non si chiama trovata e sviluppo si chiama ricerca e sviluppo esatto vuol dire che non sai ricerca vuol dire che sto cercando ma non è detto che trovo invece tutti vogliamo trovare tutti vogliamo avere successo tutti vogliamo io infatti dico vogliamo fare la riforma della scuola facciamo una scuola basata sui progetti di 5 anni caro bambino come si chiama il tuo figlio non ricordo Gael Gael sta entrando in terza elementare dovevi fare in prima elementare questo discorso qual è il tuo progetto? ti aiuto per 5 anni a studiare tutte le cose che ti servono per andare sulla luna moti parabolici propulsori a idrogeno la luna le rocce le costellazioni e deve essere una scuola progettuale io devo farti credere che tu insieme a me raggiungerai la luna grazie alla scuola grazie alla cultura mi piace motiva un casino cambia tutto vuol dire che tu hai 5 anni allora ti entra nella testa che le cose non si fanno interrogazione sui romani dai spiegami i romani un minuto ho fatto i romani dai adesso tocca facciamo i greci un minuto sui greci un cazzo no? ci vuole una progettazione ci vuole una fatica ci sono tanti elementi insieme non andiamo in laboratorio quindi sì è così dobbiamo come dice Parisi abituarci alla progettazione di lunga gittata questo signore qua ma perché se i loro viaggi attraversare l'Atlantico per andare in America andare nel Far West erano progetti lunghi questa roba qua gli è rimasta dentro nella cultura noi abbiamo culture ormai ferme l'Europa è ferma è ferma ai comuni no? cioè se tu vai a Siena c'è ancora che difendono ancora i campanili anche se caspita l'America la scoperta è un italiano che invece caspita di ambizia o Marco Polo altro che salto luce spuglio quello là poteva veramente cadere giù noi dobbiamo riprendere in mano Marco Polo Leonardo da Vinci e Amerigo Vespucci e Colombo i soldi li ha presi dagli stranieri Cristoforo Colombo infatti come ci spiegava Carlo Sant'Agostino il problema è che noi qui non abbiamo la propensione al rischio esatto e quindi i rischiatori ci sono gli italiani secondo me sono tra i più grandi rischiatori infatti poi vanno all'estero hanno successo ma come si dice il frame come dice il mainframe il mainstream l'environment manca fin dalla scuola dobbiamo far usare i nostri figli guardate e poi davvero chiudiamo però su questo tema dell'audacia il duetto Page Brin di Google si formò dopo che non so chi dei due non ricordo più i nomi se Page o Bridge o Brin scusate arrivò a Stanford facendo un campus non so più in quale università che si intitolava campus estivo sano disprezzo per l'impossibile sano disprezzo all'università non era una roba alternativa all'università corso universitario campus estivo sano disprezzo per l'impossibile cazzo questo è il cavo transatlantico è un esempio di sano disprezzo per l'impossibile la luna se ti ricordi Kennedy che dice io non vado perché è facile vado perché è difficile noi non facciamo più nulla di difficile deve essere tutto facile tutto chiaro tutto già trovato cazzo ma l'umano non è quella roba lì l'umano è perdersi l'umano è essere sconfortato oggi se Kennedy se dobbiamo andare lì ma come ma con tutti i problemi che abbiamo qua c'è la gente che non può mettere insieme il pranzo con la cena e tu spendi i soldi per andare e quindi siccome il populismo vince alla fine sarebbe difficile che Kennedy riuscisse però noi noi restiamo Kennedy Kennedy il nostro l'abbiamo fatto invitando Massimo sempre un piacere comunque ho trovato l'oggetto 3D più stampato al mondo qual è? è un elefantino fatto da un francese e si chiama Le Fab Shop ma loro non lo vendono no non ho capito se è in vendita o se lo la gente ma dove si è andato su Thing Givers ho cercato what is the most print we dream painted eh ma perché loro non hanno ancora detto i loro numeri hanno fatto ancora disclosure dovremmo dovremmo Max grazie che dire ci continuiamo ah no ecco i riferimenti su Instagram ci sei? Tempomax Tempomax su Instagram devo cambiarlo devo cambiarlo Tempomax perché sembra che c'è un tempo massimo invece non c'è mai un tempo massimo puoi fare il cazzo che vuoi quando vuoi fa tutti i geni ogni tot ogni mese su tutte le piattaforme Spotify Apple Podcast eccetera ovunque però è uscito anche il nuovo podcast che si chiama Genio Quotidiano quello lo trovate su Audible quindi è una piattaforma chiusa che però poi c'è io ve lo consiglio perché da formatore finanziario è una gran figata ma ti è piaciuto? non ti ho mai chiesto ti è piaciuto? bellissimo ma io adoro Alessandro Borghi e sono un fan di Guido Maria Brera e sono amico tuo cioè come potevo mi piace quando l'hai postato ho detto no che cazzo è la congiunzione dei pianeti è stata una bella esperienza e i diavoli è un podcast che diciamo commenta e presenta la seconda serie io trovo geniale non perché ne sia parte lungi da me farmi complimenti però anche perché non è una mia idea però il fatto che ci sia una serie pop perché fondamentalmente è basato sul talento di questi attori che sono bravissimi su una storia che ha scritto Guido se Guido almeno la prima stagione la seconda è stata inventata da autori internazionali con l'aiuto di Guido però è quello intrattenimento il fatto che abbiano affiancato credo che sia la scelta giusta una parte invece di approfondimento che io vado a intervistare gente dell'università della Bocconi è bellissimo c'è prima un dialogo tra me e Guido è un'idea di chi di Sky questa poi l'ho scritto si poteva fare meglio perché come al solito se sempre di Corsa Sky ce l'ha detto all'ultimo però il format apriamo io e Guido e Alessandro parliamo anche di Alessandro che è un uomo comune è un attore famosissimo ma poi alla fine sulla finanza non si è sentito la roba sul bitcoin dice io ascolto da lui ma non è che e poi rompiamo il ghiaccio noi e poi passiamo a degli esperti sui vari temi anche temi complessi perché abbiamo parlato di lobby cioè lobby in Italia è una parola sconosciuta il male il diavolo invece abbiamo portato dei lobbystri al microfono a parlare che cosa sono le lobby in Italia bello è stata una bella idea credo che quello sia il futuro dell'intrattenimento avere un sano intrattenimento dove ti godi la bravura degli attori e la storia lo storytelling e poi un approfondimento di nuovo seme e frutto è geniale bello geniale i diavoli lo trovate su tutte le piattaforme e altro basta il libro se volete il libro Massimo Temporelli noi siamo tecnologia strade blu mondadori poi mi sa che quest'estate girerai ancora per eventi ce ne hai già ho fissato qualcuno il prossimo è che pensi mar domani che pensi mar ah domani eh si vado prendo il treno domani mattina vado a Bologna e poi da Bologna pedalo fino a a Ravenna si si chiama Marina Romea Marina Romea non so dove sia tanto seguirò sul navigatore pedalo e pedalo con una persona che vi invito a seguire ma perché ha vinto anche lui l'ambrogino anche lui ha vinto l'ambrogino d'oro e si chiama Simone Longhi ed è l'angelo dei navigli si chiama seguitelo perché è un personaggio sui generis molto molto ruspante di quelli che raccontano la vita dei navigli dal punto di vista di chi lui è un responsabile della cannottiera di Olona credo non vuole dire una stupidata comunque è una di quelle scuole di cannottaggio conosciamo bene abitavamo la vicina si prende cura dei navigli tira sulle biciclette fa una serie di attività anche per far conoscere questo unicum che abbiamo nella nostra città che è una via d'acqua artificiale molto figa e domani pedalara con me perché anche lui è protagonista di questo festival e invece di andarci col treno abbiamo deciso di pedalare da Bologna sono 105 km che sono fuori forma a che ora più che altro perché domani arriviamo alle 11 non mettiamo alle 8 prendiamo il treno arriviamo alle 11 a Bologna anche perché non possiamo prendere il treno veloce perché la bicicletta non si può mettere e quindi prendiamo due regionali cambiando a Piacenza arriviamo a Bologna questa è da coglioni sta roba però fa caldo e poi pedaliamo sono in pensiero per te domani vomito ma però domani arrivo e faccio il bagno al mare la ricompensa è più importante di qualunque altra cosa grazie Max noi andremo avanti tutto il giorno ma è bello anche che le cose non abbiano un tempo max ce l'abbiano almeno il Bazar Atomico vi salutiamo tutti quanti siete i numeri uno devo dire che siete veramente dei grandi host grandi host registra questa perché ci serve per le pubblicità siete proprio bravi il pre-roll su YouTube grande bravi bravi ciao Bazar Atomico ti voglio bene ciao questo è il Bazar Atomico ciao a tutti grandi il Bazar Atomico è il Bazar Atomico